Tempo di cambiare, episodio 20, quello dell'intervista al professor Mauro Biglino. Ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it, è la sede online dove sono archiviati tutti gli episodi di questo podcast. Questo podcast attualmente è quindicinale, esce una settimana sì e una settimana no, anche se penso e spero mi auspico quanto prima di ritornare alla cadenza settimanale. Nel frattempo, di 15 giorni in 15 giorni, siamo arrivati all'episodio 20 e questa è una cifra tonda ed è un anniversario ed è una ricorrenza ed è qualcosa da celebrare. Sono 20 episodi, questo è il ventesimo, uno dopo l'altro, di paziente ricostruzione. Abbiamo parlato di tantissime cose in questi 20 episodi, abbiamo ricostruito a proposito di ricostruzione le tappe di come un'organizzazione oligarchica, tendenzialmente criminale, tendenzialmente parassitaria, ha preso il controllo delle risorse di questo pianeta. Abbiamo parlato di storia segreta, quella storia che non è insegnata in nessun libro ufficiale, in nessun libro di scuola. Abbiamo parlato del nuovo ordine mondiale, questa espressione così tanto in voga fra i cospirazionisti o fra i controinformatori e così via. Ma a parte questo abbiamo parlato dei piani globalisti dell'attuale elite di governante, di ristrutturare il mondo, di sfaldare i vecchi stati nazionali e di costruire un unico governo mondiale basato su principi ben diversi. Abbiamo svelato che l'Italia, vista dall'esterno, sembra una repubblica democratica, ma in realtà funziona a tutti gli effetti come una società privata, privata, privatamente registrata negli elenchi della SEC di Washington DC in America. Poi abbiamo parlato della Chiesa di Roma, di cosa succede dietro le porte chiuse del Vaticano, di come la Chiesa di Roma abbia rubato il messaggio della cristianità originaria e sarebbe impadronita senza che avesse alcun diritto di farlo. Abbiamo parlato di duemila anni di storia completamente falsificati, cioè riscritti, di sana pianta da quelli che sono stati i vincitori, come si dice, i vincitori riscrivono la storia. Vincitori di cosa? Vincitori di lotte di potere furiose nel corso di svariati secoli. Abbiamo visto polemiche, profezie riguardanti Petrus Romanus, il prossimo papa che, secondo le previsioni o le predizioni, è destinato ad essere l'ultimo papa di questa era cristiana. E poi abbiamo parlato, saltando i pali in frasca, sovranità individuale. Abbiamo parlato dell'uomo di paglia. Il nome che sta scritto su tutti i tuoi documenti è tu, persona fisica in carne ed ossa, non siete in realtà la stessa persona. Lo sapevi questo? Abbiamo parlato delle tre bolle papali, scritte nel Medioevo, che di fatto privano ogni essere umano di qualsiasi sovranità individuale. E questi tre documenti medievali, che ci piacciono o no, sono di fatto validi ancora oggi. Abbiamo parlato di questo movimento che si sta diffondendo quasi quasi silenziosamente in tutto il mondo, che mira a riconquistare la sovranità degli individui. Siamo stati i primi in Italia a parlare di sovranità individuale in questo podcast. Gli ascoltatori di Tempo di Cambiare hanno creato un intero gruppo di studio e di lavoro su questo argomento importantissimo della sovranità individuale. Poi abbiamo parlato di energia libera. E questa è cronaca. Stiamo seguendo in diretta gli alti e bassi della storia di Keshe, lo scienziato iraniano che sembra in procinto di divulgare queste tecnologie rivoluzionarie che sembrano destinate a cambiare la storia per sempre in base a quelle che sono le sue affermazioni ancora da verificare e da prendere sempre con un grano di sale. Poi abbiamo parlato di resilienza, come le comunità umane possono rinascere, risorgere in seguito a possibili avvenimenti catastrofici, siano essi di origine naturale, siano essi di origine umana. E poi denaro, economia. Abbiamo parlato di come il denaro è diventato di fatto proprietà privata, nelle mani dei banchieri privati, e gli stati nazionali e i governi sono costretti a prenderlo in prestito a interesse dei banchieri privati. Abbiamo parlato di come questa attuale società, questa attuale organizzazione economica, finanziaria e così via, è basata sul debito. Il debito delle persone, il debito delle famiglie, non è un accidente, non accade per caso, è proprio che questa società è costruita e ingegnerizzata in modo tale da generare debito. Abbiamo parlato di strapotere delle banche, sovranità monetaria, abbiamo parlato perfino di come non pagare i debiti, indicazioni pratiche e così via. E poi, non meno importante, sviluppo personale e sviluppo spirituale, abbiamo parlato di valori fondamentali, virtù, condotta etica, amore, saggezza, tanti altri valori senza tempo, e abbiamo stabilito che se veramente vogliamo cambiare il mondo, visto che è arrivato il tempo di cambiare, dobbiamo, non è una questione di libera scelta, dobbiamo necessariamente iniziare prima a cambiare noi stessi. Non dico prima, almeno le due cose contemporaneamente. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo anche cambiare noi stessi. Questo è il messaggio più importante affinché qualcosa cambi realmente. E così, dopo alcuni mesi di programmazione di questo podcast, era lo scorso luglio, abbiamo organizzato un primo raduno. È andato molto bene, adesso ne stiamo organizzando un secondo. Di tutti questi argomenti abbiamo parlato insieme, con questo folto gruppo di ascoltatori di questo podcast, oltre 10.000 download per ogni puntata. Abbiamo creato un forum, lo trovi su www.tempodicambiare.it slash forum, e lo puoi considerare parte integrante di questo podcast, dove avviene il dibattito fra tutti gli ascoltatori di questi episodi, che quindi creano una famiglia, creano una tribù, creano un luogo di discussione. E così, poco più di sei mesi a questo punto, questo podcast è diventato una realtà importante, un punto di riferimento, e adesso, oltre a produrre le proprie riflessioni, le proprie idee e così via, questo podcast, specialmente adesso, dall'inizio della seconda stagione, cioè da dopo la pausa estiva, ospita regolarmente interviste a liberi ricercatori, liberi pensatori italiani che altrimenti mancherebbero, come dire, di una piattaforma unica in cui farsi conoscere, divulgare le proprie riflessioni e così via. Insomma, tempo di cambiare. Questo podcast che stai ascoltando è un vero e proprio laboratorio sperimentale per questi tempi di cambiamento che stiamo vivendo. E così, buona notizia per buona notizia, a volte voglio dare l'ultima. L'ultima riguarda il secondo raduno, tempo di cambiare. È ufficiale, il secondo raduno, tempo di cambiare, si svolgerà a Roma, si svolgerà nella Capitale, e questo è un significato simbolico importantissimo, e tu, che stai ascoltando, assolutamente non puoi mancare a questo appuntamento. Questo è il secondo raduno di tempo di cambiare, se sei stato al primo sai che non puoi mancare al secondo, e se non sei stato al primo altrettanto validamente sai che non ti puoi perdere questo secondo. Come saprai, lo abbiamo intitolato La fine del mondo, il titolo di questo secondo raduno, perché se non sei vissuto tutto questo tempo in un eremo, saprai che il 21 dicembre prossimo venturo finisce il mondo. Ora, diciamo che, come si dice, non è una cosa carina lasciare questo bel mondo senza prima almeno, almeno aver salutato tutti gli amici, no? E poi, senza contare che se proprio ci devesse la fine del mondo e ce lo dobbiamo andare tutti quanti in un'altra dimensione, diamine, è meglio andarci in buona compagnia, o no? E così, da venerdì 21 mattina ore 10, nota bene, molti di voi vorranno arrivare dal giovedì sera, iniziamo venerdì 21 dicembre mattina alle ore 10, fino a domenica 23 dicembre pomeriggio alle ore 15, è ufficiale, lo so che siamo sotto Natale, 21, 22, 23 dicembre, lo so che sono date un po' scomode, ma, eh, chi se ne frega della scomodità quando si tratta di partecipare in diretta alla fine del mondo? Per cui mi aspetto la tua partecipazione. E poi, come dire, se tanto mi dà tanto, se abbiamo organizzato in fretta e furia, in 448, un'organizzazione improvvisata di soli 15 giorni, la scorsa estate abbiamo riempito 250 posti in hotel di Abano Terme, qui, ripeto, se tanto mi dà tanto, dovremmo essere almeno il doppio. E quindi gli organizzatori stanno preparando e si stanno preparando per un raduno epocale. A proposito di organizzatori, tutto questo evento e il fatto che si terrà a Roma lo dobbiamo esclusivamente al fatto che si sono avanti, si sono fatti avanti, si sono candidati, un gruppo coraggiosissimo, agguerritissimo e motivatissimo di amici di Roma, che ringrazio. Grazie Michele, grazie Michele, siete due Micheli, grazie Laura, moglie di uno dei due Micheli, grazie Alessandra, grazie Claudio, Antonella e Amedeo, tutta l'isola del risveglio di Roma e dintorni e così via. Tutti gli amici di Roma che stanno collaborando, collaborano attivamente, quasi mi vergogno a dire nome, perché chissà quanti nomi poi mi dimentico strada facendo. Sarà uno sforzo collettivo di gruppo e tutti gli amici di Roma l'organizzazione di questo secondo raduno. L'obiettivo minimo che ci siamo dati è quello di fare dieci volte meglio del raduno di Abano Terme, che già è stato bellissimo, e quindi ci aspettiamo un salto di qualità e un miglioramento. E ci saranno le solite discussioni aperte, le tavole rotonde, i lavori di gruppo, e oltre questo ci saranno le occasioni di incontro innumerevoli, dentro il raduno, fuori il raduno vero e proprio. Oltre a tutto questo, gli organizzatori stanno anche programmando una festa, o forse delle feste, dovrei dire, come dire, a dir poco devastanti, con musica dal vivo, acrobati, giocolieri, DJ, di tutto di più, sarà veramente una festa. Diamene, è la festa della fine del mondo, perché anche se è la fine del mondo, oh, con tutto quello che si legge nei giornali, bisogna pur mantenere il buon umore, no? Quindi un po' di festa non guasta mai. Ripeto, il valore principale di partecipare a questo raduno è che potrai trovare anime gemelle simili a te. Potrai trovare finalmente, come si dice? C'era un grande pensatore degli anni 60 che diceva trova gli altri che sono come te. E chi sono quegli altri? Sono quelli della minoranza indipendente, quelli che vogliono pensare con la propria testa, sviluppare il proprio cuore e migliorare il mondo, che è la minoranza indipendente a cui è dedicato questo podcast. Quindi iscriviti alla mailing list, la trovi su www.tempodicambiare.it alla pagina di questo episodio, in realtà alla pagina di tutti gli episodi, dove si possono scaricare gli audio, c'è un form in cui devi assolutamente inserire il tuo nome e email, perché così io ti posso avvisare di quando si apre un'escrizione, perché a questo punto manca soltanto la paginetta online di presentazione e il pulsante clicca qui per iscriverti. Non ho ancora fatto il tempo a prepararlo, ma sarà pronto nei prossimissimi giorni. Non credo che vorrei aspettare 15 giorni per ricevere, per poterti iscrivere, vero? Anche perché sarebbe nefasto questo, dato l'afflusso di persone che ci aspettiamo. E quindi, ripeto, iscriviti alla mailing list, così ti avviso via email di quando è tutto pronto per iscrizione, di quali sono gli avvisi, di quali sono le novità. Io questa mailing list la uso veramente. La scorsa settimana, se non sei iscritto alla mailing list, è il tempo di cambiare. Ti sei perso la mia email in diretta, in tempo reale, ho avvisato poche dopo, poche ore dopo che era accaduto, ho avvisato che l'ingegner Cash in persona si era recato all'ambasciata italiana a Bruxelles per consegnare tutti i piani, i progetti delle sue fantasmagoriche, tecnologie spaziali su una chiavetta USB consegnata direttamente nelle mani del più alto funzionario dell'ambasciata italiana a Bruxelles. Questo è un esempio degli avvisi, come si dice, delle breaking news, queste notizie dell'ultima ora che do agli amici che sono iscritti alla mailing list. Se tu non sei iscritto alla mailing list, io queste informazioni non te le posso passare. Poi se tu vuoi fare soltanto, come si dice, l'ascoltatore da salotto, tanto di cappello, ti rispetto, eh, sei liberissimo di farlo. Però se vuoi sapere veramente quello che sta accadendo nella comunità di Tempo di Cambiare, scriviti alla mia mailing list così ti posso tenere informato in tempo reale. Ho veramente straparlato fin troppo, questa più che un'introduzione è stato un romanzo. Adesso lascio la parola a quella che è la cover story di questo episodio, cioè niente popò di meno che la mia intervista al professor Mauro Biglino. Eccoci, che dire, a questo punto Mauro Biglino quasi non ha bisogno di presentazione, ha tradotto 19 libri dell'Antico Testamento, cioè della Bibbia, direttamente dall'ebraico, per conto delle edizioni San Paolo, non una casa editrice qualsiasi, la principale casa editrice cattolica italiana, nel corso delle sue traduzioni ha scoperto quello che ci sta scritto veramente nella Bibbia e non è una scoperta da poco. Quello che ha scoperto ce lo racconta adesso nel corso di questa intervista serratissima, più di un'ora, un'ora e un quarto senza riempitivi a tamburo battente fitta fitta di contenuti. Eccoci, come promesso, finalmente in linea, niente popò di meno che Mauro Biglino, grazie Mauro per aver accettato il mio invito, benvenuto anche da parte di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Allora, beh, intanto grazie a te ovviamente che mi hai invitato, un saluto agli ascoltatori, ma insomma niente popò di meno che mi sembra esagerato. Il grande Mauro Biglino. Infatti non esageriamo. Mauro, dici chi sei e qual è il tuo background a beneficio di quelli che per assurdo eventualmente potrebbero non conoscerti. Dico, fra i nostri ascoltatori che bene o male penso ti seguono. Ok, allora, cerchiamo ovviamente di fare una sintesi rapida. Dunque, insomma, io dall'età del liceo classico mi sono sempre interessato diciamo alle religioni, alla filosofia, insomma, un po' alla storia del pensiero umano, poi ovviamente necessariamente quindi alla storia del Medio Oriente, alla storia dell'Oriente, eccetera. E quindi proseguendo poi insomma nel coltivare questi miei interessi personali a un certo punto ho sentito il bisogno di arrivare un pochettino a quella che possiamo considerare la fonte di quello che è il pensiero religioso occidentale e quindi di accostarmi ai testi ebraici. Per fare questo dopo aver studiato ovviamente il latino e il greco negli studi classici ho studiato la comunità ebraica della città in cui abito e poi ho cominciato a tradurre. In un modo assolutamente fortuito diciamo così le mie traduzioni sono state viste dalle edizioni San Paolo che è insomma una delle più importanti case editrice cattoliche italiane e in sostanza hanno cominciato a darmi dei lavori redazionali sulla loro collana bibbia ebraica interlineare che loro intanto avevano aperto dopo i primi lavori redazionali quindi di controllo sui testi eccetera mi hanno affidato invece lavori veri e propri di traduzione quindi io per loro ho tradotto 19 libri dell'antico testamento dal codice dalla bibbia stud cartensia che è la versione a stampa diciamo così del codice masoretico di Leningrado ho tradotto 19 libri 17 sono stati pubblicati gli ultimi due che hanno ancora mi risulta non siano più stati pubblicati perché nel frattempo io ho iniziato a scrivere i miei libri biblici diciamo quei saggi che sto scrivendo di argomento biblico e ovviamente il rapporto con loro si è interrotto immediatamente perché capisco che loro non possano avere come loro traduttore uno che scrive e dice le cose che scrivo e dico io e quindi insomma io provengo di lì quindi insomma tutto il mio lavoro proviene da questi anni di traduzione professionale fatta per loro sulla base di incarichi che prevedevano che io facessi una traduzione letterale ed è proprio da questa traduzione letterale che ho cominciato a evidenziare insomma tutta una serie di aspetti che sono quelli di cui parlo nei miei libri cioè tu hai fatto delle traduzioni i testi che hai tradotto alla fine sono sempre gli stessi però stavolta ne sono usciti fuori dei risultati a dir poco sorprendenti allora la domanda che ti faccio è perché cioè cosa hai fatto tu di diverso rispetto a coloro che hanno tradotto prima di te e come facciamo ad essere certi che siano attendibili le tue traduzioni o ricostruzioni così controverse diciamo così allora diciamo questo che quando si parla di lingue antiche la certezza è una come dire è una sensazione che dobbiamo un pochettino accantonare perché la certezza non c'è mai ricordo una frase del professor Garbine che era ordinario di filologia semitica all'università la sapienza di Roma il quale io seguo i suoi studi le sue pubblicazioni e lui in un libro scriveva che quando si parla di lingue antiche neppure l'accordo di tutti gli studiosi della terra sul significato di un termine è garanzia di certezza quindi ciò detto dobbiamo dire che la certezza assoluta se vogliamo non ci può essere ovviamente per le mie traduzioni ma neppure per quelle degli altri cioè neppure per quelle che da 2000 anni vengono date per certe questo ovviamente è un criterio che vale per tutti dove sta la differenza sostanziale è che chi traduce avendo in testa una come dire un preconcetto diciamolo oppure anche questo termine in senso positivo cioè sa già sa già esattamente dove vuole arrivare diciamo di ordine teologico o di ordine esoterico iniziatico o quant'altro allora quando trova un certo termine faccio l'esempio quando trova il termine kavod dice questa è la gloria di Dio bene quando io invece che traduco da ho tradotto da laico e ho tradotto avendo l'incarico di fare la traduzione letterale se trovo kavod kavod dico che kavod significa oggetto pesante e quindi quando Mosè vede una certa cosa che per i teologi è la gloria di Yahweh io dico che Mosè vede un oggetto pesante di Yahweh ecco in questo senso ma kavod è sempre kavod per tutte e due mi spiego sia per me che per i teologi o gli esoteristi o quant'altro allora la differenza dove sta sta nel fatto che io cerco di rimanere il più fedele possibile al significato letterale del testo senza introdurre elaborazioni successive finalizzate a far passare una certa dottrina che invece è quello che ovviamente è stato fatto e viene tuttora fatto ma non soltanto dalla chiesa cattolica perché poi normalmente è facile uno dice la chiesa cattolica sono due mila anni che ci racconta favole no le favole hanno cominciato a raccontare i sacerdoti ebrei continuano a raccontarcele anche una parte di loro le favole molte favole ce le racconta anche certo mondo esoterico cioè quindi in realtà allora diciamo che io faccio finta lo dico sempre nelle conferenze che quando la bibbia dice una cosa quell'autore biblico volesse dirci proprio quella invece negli altri c'è questo atteggiamento quando la bibbia dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra e in quest'altra ognuno ci mette la sua verità questa è la differenza sostanziale molto interessante molto interessante prima di proseguire su questa via vado un attimino off topic a fare una domanda parzialmente off topic nel pubblico di questo podcast ci sono tanti liberi pensatori fra virgolette alcuni dei quali sono anche detti complottisti o cospirazionisti vanno a studiare la parte occulta della storia o dell'attualità e insomma per farla breve in internet circola un dibattito per così dire su una tua eventuale passata affiliazione alla massoneria da cui poi ti saresti distaccato per me questo di per sé per me personalmente non significa assolutamente nulla però a beneficio di coloro che stanno speculando che potrebbero esserci degli scoppi occulti in tutto quello che fai a causa di queste tue adesioni passate o presenti credo che questa sia la tua chance di dire la tua su questa vicenda va bene va bene l'ho già detto alcune volte ma poi so bene che per quanto uno possa dire poi chi vuol credere certe cose continuerà a crederle perché ma è normale fa parte del gioco quindi non è un problema allora circola il dibattito su una mia figliazione massonica perché la mia figliazione massonica è dichiarata è stata dichiarata da me cioè il dibattito circola perché io in un dialogo non mi ricordo più insomma avevo scritto allora appunto che siccome io sono stato in massoneria certe cose le conoscevo dall'interno eccetera bene quindi sono io che l'ho dichiarato non perché qualcuno l'abbia scoperto ma oltretutto io dichiaravo la mia appartenenza quando c'ero dentro nel senso che io non l'ho mai nascosta perché è assurdo nascondere una propria appartenenza ad un ordine come come quello io ne sono uscito circa dunque 10 una decina di anni fa diciamo così sì più o meno 10 11 anni fa ci sono stato dentro per parecchi anni appartenevo a una delle due grandi obbedienze regolari italiane una la più grande è il Grand Oriente d'Italia l'altra è la Grand Lodge d'Italia io appartenevo alla Grand Loggia d'Italia degli Alam cioè degli antichi liberi accettati muratori che è un'obbedienza tra l'altro in cui circa il 32-33% è costituito da donne perché questa è una delle cose anche che spesso non si sanno quindi insomma il 30% di questa grande obbedienza è costituito da donne e quindi io appartenevo a questa ci sono stato un certo numero di anni dopodiché sono uscito perché non mi interessava più starci e quindi io dichiaravo la mia appartenenza quando c'ero l'ho in assoluta tranquillità dichiarata dopo dicendo punto ricordo che insomma quando c'ero dentro e perché insomma si dicevano delle cose che non corrispondevano ovviamente a verità perché poi sulla massoneria perché poi si confonde si mette dentro tutto voglio dire ci sono le obbedienze regolari e alle quali tra l'altro consiglierei questi complotisti di ci pare proprio perché almeno così si rendono conto dall'interno di cosa è veramente al di là di ciò che viene detto e poi ci sono come dire ci sono delle obbedienze diciamo così non regolari non riconosciute sono centinaia sono in Italia sono più di cento di queste obbedienze qui ma sono obbedienze spesso formate da 50 persone 150 persone 200 persone che si autodefiniscono massoni ma non sono massoni riconosciuti da nessuno da nessuna obbedienza regolare mondiale bene e allora la massoneria è una grande costellazione una grande galassia dove dentro c'è il buono e c'è il cattivo come ovunque poi ci sono ovviamente se ci sono i cosiddetti e ci sono ovviamente perché ci sono in tutte le categorie i cosiddetti deviati beh quelli sono i delinquenti ma quelli sono criminali di per sé in quanto sono criminali come uomini non in quanto massoni perché la massoneria in sé ha dei principi sociali che devo dire se fossero applicati farebbero cambiare un po' il rapporto tra gli uomini e aiuterebbero tutti a vivere meglio il problema è che purtroppo la massoneria è fatta da uomini e gli uomini alle volte proclamano dei principi poi non li rispettano è lo stesso questo fa parte del gioco quindi questo è poi lo so allora io penso di essere uno degli italiani più fortunati in questo momento perché in questo momento di grande crisi se io leggo in rete cosa si dice di me io ho un sacco di datori di lavoro cioè io lavoro per la massoneria lavoro per i raeliani lavoro per gli illuminati lavoro ti dico francamente ah sì sono un rabbino che opera sotto copertura lavoro per il Vaticano quindi addirittura viene detto che io lavoro per il Vaticano cioè quindi ho un sacco di datori di lavoro e la cosa bella è che i miei amici che sanno come è nata questa cosa qui dei miei libri ecco quando vedono queste cose qui eccetera cioè si fanno un sacco di risate perché se poi se poi vuoi ti racconto come è nata questa cosa dei libri insomma perché veramente ha del ridicolo tutto ciò che viene detto e scritto magari adesso perché no se riesci a sintetizzarlo sì sì lo sintetizzo molto molto semplicemente allora io dicevo appunto ho cominciato a tradurre per conto mio poi siccome le edizioni San Paolo avevano cominciato a pubblicare questa collana della Bibbia ebraica interlineale allora io mi sono detto vabbè io traduco per conto mio tra l'altro mi sono riscritta la genesi in ebraico tutta a mano a matita per allenarmi a conoscere bene la lingua me la sono riscritta a matita e me la traducevo a matita quindi ho un quaderno con tutta la genesi di scritta a mano ecco allora ho comprato il primo di questi loro libri e mi sono detto io per conto mio traduco due tre quattro versetti poi vado a vedere come loro traducono e così vedo quante cazzate faccio bene ho cominciato a fare così e ho visto insomma che in realtà insomma la cosa andava abbastanza bene poi un giorno ho visto in una loro traduzione insomma mi sembrava che avessero saltato un proprio fisso siccome sui loro libri c'era una email gli ho scritto dicendo insomma mi scuso per così traducendo mi è parso di vedere che loro mi hanno risposto correttamente in 24 ore dicendo guarda abbiamo controllato lei ha ragione ne terremo conto nella prossima edizione se trovasse altre cose ce le segnali non è capitato che tutti i giorni uno si ricopia a mano la Bibbia e segnala gli errori di traduzione sicuramente allora io sono andato avanti a tradurre e avevo trovato altre due o tre cosette glielo ho segnalate loro mi hanno di nuovo risposto dicendo guarda abbiamo controllato lei ha ragione la ringraziamo eccetera eccetera poi passa un po' di tempo loro mi scrivono dicendo sente sarebbe possibile verificare qualche sua traduzione vedere come lei traduce allora io ho preso cinque pagine di quel quaderno scritto a mano ho fatto le fotocoppie le ho infilate in una busta e glielo spedite dicendo beh tanto non capiranno neanche quello che c'è scritto quindi figuriamoci in realtà loro mi hanno risposto dicendo guarda abbiamo visto che lei traduce esattamente come noi avremmo piacere di conoscere e così è cominciato il rapporto io per anni appunto per un po' di anni ho tradotto per loro ho tradotto appunto questi 19 libri e man mano che traducevo facendo questa traduzione letterale ovviamente mi venivano fuori delle cose che non mi tornavano rispetto a ciò che diciamo così ci viene normalmente raccontato e cosa succedeva succedeva che ovviamente siccome condivido una serie di interessi culturali con altri amici quando ci si trovavano erano gli amici stessi che mi dicevano ma senti allora come vanno le tue cose insomma raccontaci e allora io raccontavo nel gruppo di questi amici c'è uno che fa di professione l'editor cioè lavora per diverse case editrici quindi fa il lavoro di editing per varie case editrici che mi ha detto ma senti un po' queste cose qui avresti voglia te la sentiresti di mettere per l'iscritto è ok molto bene ma a monte di questo c'era questa esigenza tua di esprimerti liberamente perché loro la tua casa editrice aveva modificato le tue traduzioni o perché tu avevi dovuto mantenerti per così dire ma io devo dire non è neanche che avessi questa esigenza di esprimere liberamente perché in realtà non pensavo assolutamente di mettere per iscritto queste cose e di divulgarle cioè era una conoscenza mia come altri studi che porto avanti per conto mio senza sentire il bisogno di quindi le traduzioni che tu presentavi alla casa editrice erano già addolcite come posso dire allora io presentavo le traduzioni poi come si fa in tutte le case editrici ciò che viene fatto da un autore passa al vaglio del comitato di redazione il quale poi pubblica liberamente perché così è insomma la regola editoriale e quindi poi dopo loro pubblicavano ciò che era passato al loro vaglio e quindi con le necessarie variazioni eccetera e quindi insomma questo mio amico mi ha detto senti perché c'è uno degli editori per i quali io lavoro che vuol mettere in piedi una collana per il libero pensiero e quasi quasi ti presenterei io ho detto vabbè presente allora mi ha presentato questo editore abbiamo parlato e l'editore a un certo punto mi ha detto senta ha voglia ha piacere di mettere per iscritto queste cose io le pubblico è nato tutto così in modo assolutamente casuale che poi sarebbe la tua attuale c'è chi dice che il caso non esiste ma questa sarebbe altra discussione diciamo è nato così cioè nel senso che uno che fa l'editor ha detto senti se vuoi ti presento a questo editore che vuol mettere in piedi benissimo ha detto vabbè andiamo a incontrarlo vediamo e questa cosa mi ha stravolto la vita poi di qui vengono fuori tutte le interpretazioni dietro logiche però tanto ognuno è libero di pensare ciò che vuole io non posso far altro che raccontare le cose come sono avvenute e chi non ci vuole credere non ci crede non è un problema mio va bene grazie Mauro la Bibbia è considerata una sacra scrittura da chi la considera tale perché sarebbe stata dettata o ispirata o trasmessa da Dio ora se quello che ho appena detto è sbagliato o i conti non tornano da qualche parte chi è in realtà l'autore della Bibbia e perché l'ha scritta la Bibbia con quale intenzione o motivazione è stata scritta intanto gli autori sono tanti e sono per lo più sconosciuti nel senso che la Bibbia è un insieme di racconti messi per iscritto da tanti autori nel corso dei secoli racconti che tra l'altro ciascuno di questi è stato anche riscritto è stato emendato è stato tagliato è stato implementato perché tutti quelli che nei secoli hanno avuto in mano la Bibbia e avevano il potere per farlo ovviamente ci hanno messo del loro quindi la Bibbia è intanto un insieme di libri che a un certo punto sono stati riuniti sono stati codificati e sono stati fissati cioè a un certo punto e questo è avvenuto per quanto riguarda diciamo le Bibbie che noi abbiamo in casa quindi insomma tutte le Bibbie del mondo occidentale è avvenuto tra il VI e il IX secolo dopo Cristo da parte di questa scuola masoretica di Tiberiade che ha detto adesso basta adesso fissiamo la Bibbia una volta per tutte e quindi le Bibbie che noi abbiamo in casa derivano appunto da questo codice di Leningrado che è la Bibbia ufficialmente diciamo così accettato o diciamo il punto di riferimento per l'ebraismo e per il cristianesimo però se ho qualche minuto do due concetti interessanti perché poi la gente queste cose non le sa e quindi non ci pensa certo cioè la Bibbia è appunto un insieme di libri che nel corso di secoli qualcuno ha deciso di dividere tra libri credibili e libri non credibili cioè facciamo l'esempio la Bibbia cattolica quando dico Bibbia attenzione così almeno siamo chiari parliamo sempre di antico testamento quindi la Bibbia cattolica è fatta da 47 libri la Bibbia ebraica è fatta di 39 perché gli ebrai dicono che ci sono 8 libri che non sono credibili quindi se io nasco a Roma mi viene detto che devo credere come veri e ispirati da Dio 47 libri se io nasco a Gerusalemme mi viene detto che io devo credere come veri 39 libri se io nasco in Egitto e appartengo alla comunità dei cristiani copti mi viene detto che ci sono dei libri ai quali devo credere che invece sono libri ai quali non devo credere se nasco a Roma o Gerusalemme per esempio il libro di Enoco il libro dei Giubilei sono veri per i cristiani copti non sono veri per i cristiani romani e per gli ebrei se io nasco ad Atene mi viene detto che il punto di riferimento della mia Bibbia non è il codice eroico masoretico di Leningrado ma è la Bibbia greca dei settanta scritta nel terzo secolo avanti Cristo se io fossi nato in Italia nel secondo terzo secolo dopo Cristo mi sarebbe stata detta la stessa cosa cioè i padri della chiesa cristiana prendevano come fonte la Bibbia greca dei settanta questo fin più o meno al quarto secolo dopo Cristo di lì in avanti hanno abbandonato la Bibbia greca dei settanta e si sono avvicinati al canone ebraico quindi i libri nei quali io devo credere ciascuno di noi deve credere dipendono dal luogo geografico e dal periodo storico in cui ciascuno di noi nasce perché a seconda del luogo geografico e del periodo storico ci sono degli uomini che decidono o hanno deciso quali sono i libri veri e quali sono i libri falsi ma tra i libri veri così almeno faccio un quadro e la gente capisce ci sono migliaia di variazioni cioè tra i primi cinque libri ad esempio del codice masoretico cioè tra quelli considerati veri in una tradizione e quelli considerati anche veri in un'altra tradizione esattamente per esempio tra la Torah la Torah sono i primi cinque libri dell'Antico Testamento quelli che noi conosciamo come Pentateuco no? tra la Torah dei Masoreti e la Torah dei Samaritani quindi siamo sempre in terra di Israele ci sono duemila varianti duemila varianti significa significa parole tradotte diversamente? no 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 proprio scritte diversamente o parole che ci sono in una e non ci sono nell'altra cioè proprio variazioni ovviamente da variazioni più piccole a variazioni più importanti e i Samaritani dicono noi siamo i custodi della legge i Masoreti dicono noi siamo i custodi della tradizione duemila varianti tra la Bibbia greca e la Bibbia masoretica ci sono mille varianti di nuovo allora se io nasco ad Atene mi si dice che quella vera è quella greca se io nasco a Gerusalemme o Roma mi si dice che quella vera è quella masoretica quindi ognuno scelga quale vuole perché tanto non c'è persona al mondo che possa dire qual è quella vera perché degli uomini stando seduti a tavolino stabiliscono per conto degli altri quali sono i libri nei quali bisogna credere e quali sono dei libri nei quali non bisogna credere ma all'interno di questo ci sarebbe ancora dell'altro ma ho già parlato troppo troppo dico come lunghezza di risposta assolutamente andiamo avanti veniamo al punto cruciale della Bibbia cioè Dio al catechismo ci insegnano che il protagonista della Bibbia è Dio o Yahweh che dir si voglia che anzitutto è uno altrimenti diciamo non saremmo più diversi dai pagani adoratori di molti dei e così via quindi un solo Dio onnipotente onnisciente dotato di poteri enormi immortale ecco questi sono tre almeno tre delle qualità onnipotente onnisciente immortale e uno ora questo tipo di baggio o descrizione che noi abbiamo imparato al catechismo è confermato o in che modo esce diverso dalle tue tradizioni dalle tue traduzioni della Bibbia dunque questa è una delle poche certezze che ho la Bibbia non parla di Dio cioè non parla in assoluto di Dio in assoluto di Dio cioè del Dio trascendente spirituale creatore dei cieli della terra io ho fatto un libro per gli Stati Uniti e sulla base di questo libro negli Stati Uniti non è ancora pubblicato ma siccome l'hanno già letto degli studiosi americani i quali l'ho mandato l'hanno già letto dei conduttori di reti televisive radiofoniche negli Stati Uniti si sono già scatenati i forum più importanti perché in quel libro mi sa che fra poco in Italia non ti vediamo più se conosco bene il mercato americano non lo so non lo so fatto sta che sono letteralmente io ho già partecipato in diretta a delle trasmissioni radiofoniche coast to coast cioè in diretta da New York a Los Angeles e quel libro si intitola There is no good in the Bible non c'è Dio un'affermazione fortissima questo è il titolo perché non c'è e chiunque studi la Bibbia senza preconcetti teologici lo sa Yahweh è uno degli Elohim cioè uno di quegli individui di cui parla la Bibbia e che sono tanti io nelle conferenze che ho iniziato adesso cioè il nuovo ciclo insomma che ho iniziato adesso da settembre io documento questa cosa tra l'altro e lo faccio in pubblico leggendo la Bibbia che abbiamo in casa non c'è neppure bisogno di traduzioni particolari se ci si libera dai preconcetti fideistici fideistici si capisce chiaramente che Yahweh è uno degli Elohim e che Yahweh sia uno di questi Elohim lo sa bene anche il Vaticano lo sanno bene un sacco di ebrei che sono in totale pieno accordo con me poi ci sono gli ebrei fideisti che invece mi attaccano perché ovviamente non possono accettare che io metta in discussione il loro Dio quello che li ha scelti ma pazienza mi spiace per loro ma non so cosa farci lo sanno bene lo sanno bene anche a Roma tant'è che una direttiva data ai vescovi e ai sacerdoti che è pubblica quindi non sto svelando nulla non è che abbia fatto ricerche dietrologiche è pubblica dice di non parlare più di Yahweh perché il nome Yahweh va dimenticato perché loro sanno bene che se la gente capisce chi è Yahweh cioè quel personaggio su cui la teologia ha inventato Dio beh allora la gente capisce insomma che cosa c'è veramente dentro la Bibbia allora Yahweh non deve essere più come nome dimenticato cioè citato deve essere dimenticato quindi allora sono tanti Yahweh è uno di loro Yahweh è un individuo in carne ed ossa tra l'altro come dire leggendo attentamente la Bibbia per fortuna per noi non è Dio perché essere nelle mani di un fra virgolette Dio così sarebbe un dramma colossale colossale e gli Elohim muoiono lo dice chiaramente la Bibbia muoiono come gli Adam questi due termini Elohim che è un termine plurale e chi vuole pensare che Elohim siccome viene sempre tradotto con Dio chi vuole pensare che Elohim in realtà indichi il Dio unico allora arriva a dire no ma non è plurale è una particolare forma di singolare va bene non mi interessa neppure entrare in queste discussioni filologiche la Bibbia parla chiaramente di Elohim come di una pluralità di individui e dice appunto che sono tanti Yahweh è uno di loro Yahweh è geloso del fatto che il suo popolo possa rivolgersi agli altri Elohim geloso al punto che dice se vi rivolgete agli altri io vi ammazzo e c'è una studiosa ebrea che in un suo libro dove analizza tutta una serie di cose ha fatto il conto e dice che Yahweh di soli suoi seguaci seguaci non nemici seguaci che non abbedivano ai suoi ordini ne ha uccisi 40.000 è vero basta fare il conto nella Bibbia quindi ha uccisi perché non obbedivano ai suoi ordini per questo dico meno male che non è Dio perché saremmo molto malmessi cioè praticamente è niente di più lontano dalla visione del Nuovo Testamento o Vangelo che dir si voglia sono due mondi completamente diversi quindi il Dio di amore da una parte e dall'altra parte invece nell'Antico Testamento abbiamo un Dio l'altra parte è un colonizzatore che ha cercato di costruirsi un popolo per cercare di andare a conquistarsi con il sangue un pezzo di terra questo è Yahweh della Bibbia un colonizzatore uno all'interno di un popolo di colorizzatori esattamente quindi questi chi sono questi Elohim venivano dallo spazio erano alieni avevano fattezze umane avevano le squame al posto della pelle erano mostruosi cosa erano questi Elohim ne parliamo va bene nel nuovo libro che esce tra 15 giorni che si intitola non c'è creazione nella Bibbia cioè la Bibbia non parla di creazione neppure nel primo versetto della Genesi sapete quello in cui si dice in principio Dio creò i cieli e la terra bene quel versetto lì non vuol dire questo e lo documento in due lunghi capitoli in questo nuovo libro che sta per uscire bene in quel libro io pubblico una tavoletta sumero-accadica tradotta non dai traduttori alternativi cioè quelli non riconosciuti da nessuno ma tradotta dai traduttori accademici più famosi al mondo dove si dice che quelli che nella cultura sumero-accadica sono conosciuti come gli Anunna o Anunnaki provengono da una dimora celeste una dimora celeste che era priva di vegetazione e dice che questi stavano lì quando ancora non erano arrivati sulla terra quindi abbiamo una tavoletta sumero-accadica tradotta dagli accademici i più importanti al mondo tra l'altro sono quattro che nel giro di quarant'anni l'hanno tradotta indipendentemente l'uno dall'altro e tutti dando lo stesso significato quindi ci si dice che questi arrivano da un altro pianeta non chiedetemi quale sia l'altro pianeta perché non lo so non c'è scritto e quindi non me ne occupo neanche perché io mi occupo della Bibbia e di questo la Bibbia non fa menzione di questa provenienza di questa nulla c'è soltanto e questo l'ho scritto nel libro Il Dio Alieno della Bibbia c'è soltanto un possibile piccolo aggancio quando la Bibbia poi dopo ricordami che devo parlarti del possibile aspetto fisico degli Elohim perché mi avevi chiesto questo allora quando la Bibbia parla dei Nephilim cioè i cosiddetti giganti e tra l'altro in due passi dice pure che questi giganti avevano sei dita per ogni arto ma questo lo trovate anche nelle traduzioni delle Bibbie che avete in casa quindi non c'è bisogno di traduzioni particolari Nephilim è il termine che viene tradotto con giganti ecco dobbiamo sapere che Nephilim ha una desinenza plurale il nome aramaico singolare Nephila indica una cosa sola una cosa sola quindi lì non c'è possibilità di interpretazione indica costellazione di Orione quindi se Nephilim lo possiamo considerare una desinenza del plurale e pensiamo a questa definizione dell'aramaico singolare cioè Nephila significa costellazione di Orione allora ciò che ci viene in mente ma ripeto è tutto da dimostrare tutto da approfondire è che Nephilim potesse indicare una sorta di Orioniti Orioniani non lo so certo è che questo collegamento diciamo che è quantomeno curioso poi è tutto da studiare tutto da approfondire ma insomma il fatto che Nephila singolare significhi costellazione di Orione beh insomma può dare adito quantomeno a qualche sviluppo a qualche pensiero prima di arrivare all'aspetto fisico che ci interessa a tutti quanti che altri aneddoti o passaggi della Bibbia potrebbero confermarci questa visione che questo popolo erano lì sparsi per il pianeta terra probabilmente a colonizzare a colonizzarla o che altri che altri indizi abbiamo per confermare questo allora Deuteronomio 32,8 lo potete leggere nelle Bibbie che avete in casa si dice che quando Elion Elion significa in ebraico quello che sta sopra quindi il comandante definiva i confini delle nazioni e le distribuiva dice fece in sostanza questa assegnazione sulla base del numero e nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è una delle tante falsità introdotte dai masoreti che dovevano ovviamente glorificare il popolo ebraico sulla base del numero dei figli di Israele ma questa è una falsità perché tutti i codici più antichi compreso il codice greco dicono sulla base del numero dei figli degli Elohim cioè il capo degli Elohim ha contato gli Elohim e ha diviso la terra in diciamo così governatorati sulla base del numero degli Elohim e lì in quel passo si dice che Yahweh questo è curioso tocco in eredità cioè in assegnazione quel popolo quindi lì ci viene detto con assoluta chiarezza che il capo degli Elohim ripeto Deuteronomio 32,8 e seguenti il capo degli Elohim ha contato gli Elohim ha definito i confini delle nazioni le ha assegnate e questa assegnazione a Yahweh che dunque era uno degli Elohim che eseguivano gli ordini di un capo tra l'altro quindi non era neanche lui il capo a lui in assegnazione toccò quel popolo e dice pure la Bibbia che lo trovò piangente e disperato nel deserto cioè a lui è stata data un'assegnazione infima pensiamo a quelli dei suoi colleghi che hanno avuto in assegnazione l'Egitto ad esempio o quelli che hanno avuto in assegnazione quella che sarebbe poi diventata la civiltà siro-babilonese o a quelli che hanno avuto in assegnazione le grandi civiltà orientali tipo quella dell'Indo Parashwati eccetera perché tutta la terra è stata assegnata bene Yahweh ha avuto questo e mi si dice dal mondo giudaico romano mi si dice che probabilmente Yahweh era un Elohim giovane doveva farsi le ossa e doveva dimostrare di che cosa era capace questo mi arriva da persone interne al mondo giudaico romano cioè che fanno parte di quel mondo giudaico aperto cioè non viziato dal pensiero teologico dove si dice Yahweh è il Dio universale e Yahweh è quello che ha scelto noi no ci sono gli ebrei che sanno bene chi era Yahweh un'altra espressione che ti ho sentito ripetere spesso guardando un po' i tuoi video le tue conferenze quando dici questi accampamenti erano riuniti in accampamenti qualcosa del genere c'è un bellissimo passo che non viene mai commentato da nessuno che è in Genesi 32 scusate sto andando a memoria ma siccome sto correggendo l'ultimo libro che deve uscire ho in mente decine di citazioni di citazioni quindi potrei anche sbagliare ovviamente allora si dice che quando dunque Giacobbe Giacobbe è uno dei tre patriarchi abbiamo tutti in mente almeno Abramo, Isacco, Giacobbe quindi i tre patriarchi da cui teoricamente sarebbe derivato il popolo dico teoricamente perché i rabbini americani scrivono apertamente che non sanno neppure se Abramo sia veramente esistito chiusa parenti allora teori ma noi facciamo finta che la Bibbia ci dica il vero allora questi quando dovevano sposarsi tornavano a cercare moglie all'interno della famiglia nel loro paese di origine che era la Mesopotamia allora Giacobbe fa lo stesso fa come ha fatto suo padre Abramo cioè suo nonno Abramo suo padre Isacco va a cercare moglie quando ritorna quindi con le mogli perché poi è andato a cercarne una ma in realtà è tornato con più di una con le mogli la sua tribù i servi gli animali gli elementi eccetera arriva a un certo punto e si dice che due Malakim gli vengono incontro ora Malakim è il termine ebraico che viene che significa messaggeri porta ordini in sostanza o anche guardiani o esecutori di ordini per conto degli Elohim ed è il termine che viene normalmente tradotto con angeli ma come scrivono e questo me lo scrivono anche gli ebrei che mi attaccano dove scrivono analizzando i miei libri che il fatto che nella Bibbia i Malakim non siano esseri spirituali gli ebrei lo sanno da sempre quindi l'esistenza dell'entità spirituale angeliche nella Bibbia è una delle tante invenzioni teologiche perché non ci sono proprio non c'è nessun dubbio non ci sono allora gli vengono incontro due di questi messaggeri lui vede questi due questi due non hanno neanche bisogno di parlargli lui capisce e dice ma questo è un accampamento degli Elohim e se ne va e chiama quel luogo Mahanaim che vuol dire due accampamenti quindi vuol dire che lui lì ha visto due accampamenti e la cosa è spiegabile in due modi diversi uno quando ci sono siccome questi Elohim avevano una gerarchia militare quando ci sono degli accampamenti stanziali dei militari c'è l'accampamento della truppa che è fatto di tende di un certo tipo e c'è l'accampamento degli ufficiali e dei comandanti che è fatto di un altro tipo quindi chi lo osserva dall'esterno vede due tipi di accampamenti e quindi può benissimo definirli due attenzione siccome i Malakim sono appunto gli esecutori degli ordini degli Elohim i Malakim sono la truppa rispetto agli Elohim che erano gli ufficiali ma c'è un commento di Rashid Troai che è uno forse il massimo commentatore ebreo di tutti i tempi della Bibbia siamo intorno all'anno 1000 il quale dice che lì in quel passo ci si riferisce a due schiere cioè c'era una piccola schiera che seguiva Giacobbe nella sua marcia di ritorno verso diciamo dalla Mesopotamia verso il territorio di Canaan Giacobbe arriva su un posto dove c'era il confine un confine e al di là del confine c'era un'altra schiera di questi qui quindi Rashid Troai dice che quando Giacobbe definisce Mahanaim quel luogo si riferisce a due accampamenti appartenenti a due schiere una che era quella che tutelava una parte del confine l'altra che era quella che tutelava all'altra parte del confine Interessante e quindi tornando a una domanda che ti lascio prima cioè gli autori della Bibbia non intendevano compilare un testo di religione raccontavano quello che succedeva nel modo più assoluto guarda ti leggo una frase perché questa ce l'ho qui stampata sulla mia scrivania assieme ad altre di questi ebrei ebraisti filologi che cercano di demolire il mio lavoro ma che poi di fatto sono costretti ad accettare a riconoscere tutta una serie di cose scrivono su varie cose Mauro Biglino ha ragione la Bibbia come egli afferma non è un libro di religione mai mai gli autori biblici originali hanno avuto in mente un libro di religione loro scrivevano delle cronache per come gli venivano raccontate dopo è stato trasformato in un libro di religione veniamo all'aspetto fisico degli Elohim sì allora c'è un bellissimo racconto che è il racconto di quando Abramo incontra tre di questi qui cioè Abramo si trova sotto la quercia di Mamre insomma con le sue tende con la sua tribù in assoluta tranquillità e dice dice la Bibbia che gli vengono incontro siamo per chi lo volesse controllare siamo in Genesi capitolo 18 allora gli vengono incontro tre è che la Bibbia definisce Anashim Anashim è il plurale di Ish Ish significa individuo maschile quindi io sono un Ish tu sei un Ish noi due assieme siamo due Anashim ok? è chiaro benissimo siamo due Anashim bene allora gli vengono incontro tre Anashim lui li riconosce immediatamente capisce che appartengono a quelli là li invita e dice siccome questi arrivano camminando attenzione li invita e dice allora entrate da me lavatevi sempre erbi al plurale lavatevi riposatevi ristoratevi vi faccio preparare del cibo così potete mangiare bere poi potete continuare l'altro viaggio bene questi tre si fermano mangiano bevono si lavano si riposano poi due di questi partono e vanno verso la città di Sodoma e adesso vi racconto cosa vanno a fare uno rimane lì e dalla Bibbia scopriamo che quello che rimane lì è Yahweh ok quindi tre Anashim due se ne vanno e adesso andiamo a vedere cosa vanno a fare quello che rimane è Yahweh e Yahweh racconta ad Abramo che cosa sta per succedere alla città di Sodoma dove viveva il nipote di Abramo Lot i due i due che partono e partono camminando vanno verso Sodoma vengono da quel momento in avanti chiamati Malachim cioè questi due Anashim cioè questi due individui maschi nel momento in cui vanno ad eseguire un compito diventano dei Malachim cioè diventano dei portaordini per conto di Yahweh quindi abbiamo la chiara descrizione del fatto che sono tre individui maschili simili a noi qui più avanti se vuoi raccontiamo in che cosa potevano essere diversi allora questi due vanno a Sodoma il nipote di Abramo era seduto come succedeva con gli altri anziani alla porta della città li vede arrivare come li vede arrivare capisce subito che appartengono a quelle altre schiere cioè non sono dei normali Adam Adam è il termine ebraico col quale si identifica la specie umana che era diversa dagli Elohim che erano un'altra specie anche se anche se come dice la Bibbia poi se vuoi ne parliamo sessualmente compatibili comunque allora questi due vanno Lot li vede li invita ad entrare a casa sua questi due raccontano a Lot che Lot deve immediatamente abbandonare Sodoma perché gli Elohim hanno deciso di distruggerla raderla al suolo cosa che avviene poi in effetti il giorno successivo allora gli uomini di Sodoma cercano hanno capito qual era lo scopo di questa missione cercano di catturare questi due questi due Malachim cioè quindi questi due individui maschili che vengono chiamati Malachim termine col quale si intende teologicamente gli angeli cosa assolutamente assurda cercano di catturarli questi riescono a divincolarsi si chiudono si barricano dentro quindi pensate agli angeli che si barricano dentro la casa di Lot è ridicolo solo pensare ovviamente si barricano dentro la casa poi con un sistema che io definisco tecnologico perché la Bibbia dice produsse in sostanza produssero una forte luce un abbagliamento per cui quelli che cercano di catturarli sono per un attimo accecati da questa forte luce loro approfittano di questo attimo di accecamento e scappano questi sarebbero gli angeli secondo la teologia questi se ne vanno Lot parte anche lui perché ha capito che non c'è più nulla da fare e il giorno dopo la città di Sodoma con altre quattro città Sodoma Gomorra più altre tre vengono rase al suolo con quella che può essere considerata una sorta di mini esplosione atomica e quindi vengono completamente azzerati quindi allora questi Elohim sono individui assolutamente simili a noi cioè due braccia due gambe mangiano porcano sudano puzzano si devono lavare eccetera quindi compreso Yahweh si devono lavare devono mangiare devono dormire anche perché Lot invita questi due a dormire da lui quindi gli angeli devono dormire come tutti gli uomini esattamente in che cosa potevano essere allora dicevo prima che erano anche sessualmente compatibili in Genesi capitolo 6 si dice chiaramente e gli autori biblici lo raccontavano in assoluta tranquillità perché per loro che non avevano finalità religiose non era valutamente un problema che gli Elohim si uniscono con le femmine degli Adam perché hanno visto che le femmine degli Adam erano otto volte cioè erano belle erano appetibili si uniscono e ne nascono dei figli questi figli la Bibbia li definisce i gibborim che vuol dire uomini famosi uomini di fama uomini di potere e non sarebbero anche i famosi giganti no la Bibbia dice sempre in quel passo che in quel tempo cioè nel periodo nel tempo in cui gli Elohim si univano con le femmine Adam sulla terra c'erano i nefilim cioè sulla terra c'erano i giganti che però non sono i figli di queste unioni ma c'erano indipendentemente da queste unioni perché i figli di queste unioni sono i gibborim che essendo dei sangue misto ovviamente erano considerati appunto uomini famosi uomini di fama uomini di peso uomini di potere ma la Bibbia dice chiaramente che i mentre avvenivano queste unioni sulla terra c'erano i nefilim non che ne fossero il prodotto e i nefilim quelli di cui dicevo prima questi giganti con sei dita il cui singolare appunto in aramaico significa costellazione quindi erano probabilmente una terza stirpe distinta e separata probabilmente era un'altra razza esattamente ma il rapporto fra noi esseri umani torniamo alla creazione il rapporto fra noi esseri umani queste Elohim ci hanno creato non ci hanno creato ci hanno trovato qui sul pianeta terra e guarda caso si obbediavamo a loro com'è il rapporto fra noi e loro allora io non userei il termine ci hanno creato perché diciamo nell'ambito culturale in cui ci troviamo cioè in Italia creazione ci rimanda immediatamente al concetto di creazione dal nulla hanno schioccato le dita no la Bibbia ci dice che ci hanno fatti a loro somiglianza questo lo spiego in tutti e lo spiego molto bene anche nel libro Il Dio Lieno della Bibbia ci hanno fatti usando quello che nella Bibbia si chiama lo zelem che significa per i dizionari curati dai rabbini significa quel quid di materiale che contiene l'immagine e che essendo stato tagliato essendo derivante dal verbo zalam significa essere tagliato fuori cioè la Bibbia dice che noi siamo stati fatti be zelem cioè con lo zelem degli Elohim cioè con quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine degli Elohim e che è stato tagliato fuori ora se per un attimo noi ci dimentichiamo che stiamo parlando della Bibbia e pensiamo soltanto a questa definizione quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine e che è stato tagliato fuori beh a tutti noi mi viene in mente il DNA leggo una frase che scrivono quegli ebrei che mi attaccano te la leggo così almeno non ci sbagliamo che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso questi sono quelli che ti attaccano sì questi sono quelli che mi attaccano no ma ti leggo di più questi che quelli che mi attaccano dicono il termine ebraico malak che è quello di malakim di cui parlavamo prima tradotto in italiano con angelo ha come soggetto gli esseri umani comuni sono comuni cittadini o anche profeti o addirittura senti cosa dicono loro microorganismi tutte cose materiali che sono definite malakim cioè ovvero coloro che svolgono un compito come dicevo prima fanno da portaordini fanno da guardiani fanno da esecutori cioè loro mi attaccano perché io presento questa figura di Yahweh che per loro è il loro Dio che è il creatore dei cieli e della terra ma su tutto il resto mi danno ragione su tutto su tutto la Bibbia è noto da sempre che parla di ingegneria genetica cioè loro lo sanno da sempre loro sanno da sempre che i malakim non sono angeli io nel libro alieno della Bibbia ho dedicato un capitolo intero a dimostrare che Satana non esiste nell'Antico Testamento nel senso che non se ne parla proprio sì no nel senso che non esiste il Satana cioè c'è il termine Satana ma non è l'individuo cioè lo spirito malefico capo dei demoni proprio è Satana è un aggettivo che significa colui che in quel momento fa da pubblico ministero contro un altro e loro scrivono quelli che mi attaccano molto duramente il capitolo sul Satana Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti cioè loro lo sanno da sempre che Satana non esiste ed è un'invenzione teologica così come io sono convinto che entro un anno e quindi visto che siamo in ambito biblico faccio una piccola profezia che loro scriveranno che loro lo sanno da sempre è che la Bibbia non parla di creazione neppure nel primo versetto della Genesi però finché non c'è uno che ha l'incoscienza di cominciare a scrivere queste cose nei libri perché non lo dicono apertamente che lo sanno da sempre perché non dicono apertamente che qualcuno ci sta raccontando favole da un sacco di tempo perché tacciano e invece adesso lo scrivono per reagire contro di me perché io la risposta ce l'ho ma non rispondo io sarebbe bene rispondessero loro comunque va bene così quindi questa idea dell'intervento genetico allora è nota da tantissimo tempo è uno degli aspetti fondamentali dell'Antico Testamento e quindi sembrerebbe che loro abbiano utilizzato il proprio DNA per manipolare probabilmente delle forme di vita preesistenti io parlo dei due DNA nei libri e anche qui ti leggo di nuovo che cosa scrivono loro perché guarda questo è interessantissimo interessantissimo allora io scrivo i due racconti della creazione dell'uomo ci parlano dei due DNA con cui siamo stati fatti loro scrivono è vero che vi siano due DNA la letteratura biblica lo conosce da millenni capisci? capisci? però io questa cosa l'ho scritta un anno e mezzo fa nel Dio Lieno della Bibbia è un anno e mezzo che io vengo insultato deriso attaccato perché mi si dice che solo un deficiente può scrivere cose del genere dopo un anno e mezzo due di attacchi derisioni insomma di tutto quello che si scrive di me in rete una parte l'hai citata anche tu prima mi viene detto che loro che gli ebrei lo sanno da sempre che la Bibbia parla dei due DNA e quali sarebbero quali sarebbero questi due DNA adesso lo spiego io questa cosa l'ho rilevata traducendo l'ebraico incredibile che la Bibbia parli di due DNA l'ho rilevata traducendo l'ebraico i due DNA sono il DNA degli ominidi che questi Elohim hanno trovato su questo pianeta e quella piccola parte di DNA loro che loro hanno introdotto negli ominidi per far fare questo salto evolutivo io nel libro di cui ti dicevo prima che ho scritto per gli Stati Uniti there is no good in the Bible io lì intanto dedico un capitolo intero alle attività del Vaticano sulla studio della vita extraterrestre e questo capitolo lo manderò ad un certo gesuita perché cito lui che è quello che controlla tutta questa conoscenza vaticana su questo mondo che sembra siano estremamente all'avanguardia nel mondo sì sì sanno tutto quindi io lo manderò a lui chiedendogli se secondo lui ho scritto delle stupidaggini visto che l'ho uscito e poi questo libro io dedico un capitolo intero a entrare nelle diatribe ferocissime noi in Italia non ne abbiamo neanche la più palida idea che invece negli Stati Uniti esistono tra creazionisti e darwinisti e quindi intervengo presentando una ipotesi che io chiamo diciamo intervention theory che paradossalmente le abbraccia entrambe esattamente che io chiamo intervention theory che spiega come mai manca l'anello mancante che non troveranno mai e che spiega come mai dai nostri cugini primati a noi c'è un salto dalle 24 alle 23 coppie di cromosomi che nessun genetista è in grado di spiegare ed è per questo che lì nei forum americani e nelle trasmissioni si stanno scatenando su questo lavoro incredibile questo uno dei pezzi forti della Bibbia ci ha già accennato a questa spartizione del pianeta per zone di influenza fra i vari Elohim ma uno dei pezzi forti comunque questa storia complicatissima della relazione fra Dio o Yahweh e il suo popolo eletto cosiddetto allora a parte il fatto che gli ebrei diventano il popolo eletto perché vengono assegnati a Yahweh ma al di là di questo sai molti di noi tendono a dimenticare completamente la cronologia della Bibbia che hanno studiato da bambini magari puoi farci una specie di riepilogo sia pur breve cronologico come dire secondo quali tappe si manifesta il percorso del rapporto fra Yahweh e i principali patriarchi del popolo ebraico e in generale la storia del popolo ebraico ok allora la premessa è sempre facciamo finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero ok con questa premessa allora Abramo viene collocato diciamo tra il 1900 e il 1700 avanti Cristo Abramo viveva in Mesopotamia con ogni probabilità era quindi un sumero dice la Bibbia nel libro di Gesù è che quando Abramo era in Mesopotamia seguiva degli Elohim che non erano Yahweh lo dice la Bibbia lo dice la Bibbia che tutti abbiamo in casa quindi seguiva degli Elohim che non erano Yahweh poi arriva Yahweh lo chiama e gli dice vieni con me che ti porto a in sostanza conquistare un territorio che poi assegnerò a te e alla tua discendenza e lo porta in terra di Canaan quando è da quel momento Abramo cessa di seguire gli Elohim mesopotamici e si mette a seguire Yahweh poi quando arriva e vanno in terra di Canaan quando arriva una grande carestia in terra di Canaan Abramo è costretto a spostarsi in Egitto per trovare cibo quando si sposta in Egitto Abramo lo dice la Bibbia cessa di seguire Yahweh e si mette a seguire gli Elohim che governavano in Egitto perché Yahweh in Egitto non ci poteva mettere naso perché non era territorio suo quindi abbiamo Abramo che segue degli Elohim in Mesopotamia poi Abramo che sceglie di dire di sì a questa chiamata di andare a conquistare un territorio segue Yahweh quando si sposta in Egitto cessa di seguire Yahweh perché deve seguire gli Elohim che comandano in territorio egiziano dopodiché c'è tutto il periodo Abramo Isacco Giacobbe quindi poi i dodici figli di Giacobbe che anche loro si devono rispostare in Egitto di nuovo per via della carestia passano alcuni secoli quindi diciamo siamo partiti con Abramo con una collocazione storica tra il 1009 e il 1007 avanti Cristo arriviamo al momento di Mosè con Mosè viene collocato perché ovviamente non si sa non si ha nessuna certezza viene collocato tra il 1400 e il 1200 più o meno avanti Cristo scusate Mosè viene collocato tra il 1400 e il 1200 avanti Cristo lì ricompare questo Yahweh che dà incarico a Mosè in sostanza di portare fuori questa gente dall'Egitto per tentare di ricostruirsi un popolo tant'è che Mosè deve tenere nel deserto diciamo così in questo territorio per molti decenni questo popolo perché era un popolo che non esisteva più lo dicono i rabbini stessi dicono che il popolo ebraico è in realtà un lungo prodotto di una fusione di elementi semiti non semiti nomadi seminomani abitanti di Canaan che tutti assieme in un lunghissimo periodo hanno costruito l'identità israelitica quindi in realtà non ha portato fuori dall'Egitto gli ebrei ha portato fuori dall'Egitto un insieme di genti che poi lui ha fatto diventare popolo quindi li ha tenuti lì e come dice una studiosa ebrea Mosè ha avuto l'incarico di istituire in questo territorio un campo di addestramento paramilitare tra l'altro come dire governato con regole poliziesche ferocissime perché appunto uccidevano tutti i dissidenti tanto per capirci immediatamente senza nessuna pietà perché non ci si poteva permettere di avere dissidenti all'interno e quindi siamo appunto tra il 1400 e diciamo più o meno il 1300 1200 avanti Cristo dopodiché c'è il periodo lunghissimo dell'insediamento nella terra di Canaan quindi quando sono finalmente pronti per tentare di andarsi a conquistare pian pianino cominciano la penetrazione poi c'è il cosiddetto periodo dove loro sono governati da quelli che si chiamano i giudici e poi finalmente arriviamo intorno all'anno 1000 con i regni di Davide e Salomone e poi comincia la storia più conosciuta quella della divisione tra il regno di Giuda e il regno di Israele quindi questa è molto sinteticamente la cronistoria interessante e i rapporti durante tutta questa storia fra Yahweh o i governanti Elohim e il popolo ok nella storia che stiamo esaminando quello del popolo eletto del popolo ebraico ma diciamo per che cosa li usavano questi li usavano per li governavano a quali scopo per farsi servire per farli lavorare allora Yahweh ci sono anche dei messaggi profondamente antiumani che noi possiamo decodificare nell'antico testamento tipo la richiesta di castrarsi la circoncisione i sacrifici sacrifici animali sacrifici umani addirittura cioè che tipo di rapporto che cosa richiede al popolo che governa questo governante Elohim allora Yahweh era appunto come ho detto un normalissimo colonizzatore ovviamente potentissimo rispetto al popolo su cui lui governava e quindi il rapporto era di un solo tipo lui dava gli ordini gli altri dovevano eseguire pena la morte che veniva combinata con grande facilità quindi il popolo doveva seguire e servire lui tra l'altro all'interno di seguire e servire lui e soprattutto appunto doveva ovviamente eseguire gli ordini che venivano impartiti tramite Mosè che era il comandante in campo per conto di Yahweh e Mosè doveva appunto costruire questo piccolo o grande esercito col quale tentare di andare a conquistarsi un pezzo di terra minimamente vivibile la cosiddetta terra promessa o terra di Canaan all'interno di questa di questa gente poi Yahweh si è scelto un gruppo particolare una famiglia come quella che noi chiamiamo la famiglia dei sacerdoti ma noi abbiamo in testa l'idea del sacerdozio che è quello nostro cioè la persona che riceve una cosiddetta vocazione e che si deve dedicare alle anime per portarle alle anime dei fedeli per portarle a Dio ecco i koanim cioè i cosiddetti sacerdoti di quel popolo nulla hanno a che vedere con questo erano probabilmente servitori a tempo pieno servitori a tempo pieno al suo diretto servizio tra l'altro questi come è scritto chiaramente nella Bibbia lui li voleva senza difetti fisici cioè chi avesse avuto un difetto fisico non doveva e non poteva occuparsi di lui anche se apparteneva a quella famiglia perché questi avevano questi Elohim avevano ovviamente delle esigenze particolari pensiamo che in Egitto questo come lo diceva un egittologa dei sacerdoti che dovevano occuparsi dell'allevamento degli animali per conto dei diciamo colleghi Elohim di Yahweh che in Egitto erano i cosiddetti Sham Shuor cioè i compagni di Horus bene questi sacerdoti che dovevano occuparsi di allevare gli animali di cui poi si nutrivano questi qui non solo non dovevano avere difetti fisici ma dovevano essere belli esteticamente se non si erano belli non ci si poteva occupare dell'allevamento dei loro animali quindi avevano insomma delle esigenze esigenze molto particolari diciamo che Yahweh si accontentava del fatto che non avessero difetti fisici non li cercava belli ecco almeno questo almeno questo glielo dobbiamo riconoscere e quindi questi qui si dovevano occupare di lui si dovevano occupare del suo cibo e nel suo cibo c'erano anche i modi che lui indicava chiaramente con degli ordini precisi in cui preparargli certe parti dei corpi cioè per esempio certe parti di grasso che lui voleva che gli venissero bruciate perché lui doveva annusarne il fumo questo lo dice chiaramente la Bibbia e la Bibbia dice chiaramente che questo fumo era per lui Nichoach ora Nichoach è un altro di quei termini appunto che chi ha in mente l'idea del Dio trascendente ovviamente non vuole assolutamente accettare quindi mi viene contestato Nichoach vuol dire tranquillizzante calmante lenitivo e io adesso nelle conferenze mi faccio anche vedere con una la fotocopia di uno dei dizionari più importanti di ebraico biblico stampati negli Stati Uniti che Nichoach ha solo quel significato lì quindi non è neppure che tra tanti significati uno si vada a cercare quello ha solo quel significato lì cioè quando Yahweh usava il fumo di quel grasso preparato nel modo ordinato da lui lui si calmava e questo lo voleva assolutamente e chi si fosse appropriato di quelle parti di grasso per farne un uso personale doveva essere messo a morte e tra l'altro in due passi della Bibbia sia in Esodo che in Levitico anzi in tre Esodo, Levitico e in Ezechiele si dice chiaramente che c'è stato un lungo periodo nel quale facevano i sacrifici umani cioè in particolare gli dovevano sacrificare i primogeniti quando avevano otto giorni questo valeva sia per gli animali che per gli uomini ok ora diciamo tu non ti sei mai occupato nelle tue studi nei tuoi scritti o perlomeno in quelli pubblicati di Nuovo Testamento ti sei sempre concentrato le tue competenze sull'Antico Testamento ci sono molti scritti antichi nella cristianità originaria chiamiamolo così o la cristianità gnostica l'ognosi l'ognosticismo che sono hanno uno stampo fortemente polemico per non dire anti cioè contro l'Antico Testamento cioè affermano che il mondo sarebbe sotto l'influenza di che se è sotto l'influenza di un dio è semmai sotto l'influenza di un dio malvagio che presiede la materia un dio dell'oscurità un dio delle tenebre e così via e che il vero principio del bene o della luce non si trova in questa dimensione materiale ma si trova nella dimensione spirituale da cui gli esseri vengono prima di nascere e a cui ritornano dopo la loro morte al contrario se noi andiamo a fare alla fine un esame di quella che è stata la funzione storica della chiesa di Roma cioè della cristianità come noi la conosciamo oggi sembra che la sua funzione storica sia stata quella di prendere questo fenomeno nascente della cristianità cioè del Nuovo Testamento e di riportarlo all'interno dell'Antico Testamento tale per cui oggi abbiamo questa situazione un po' strana e inspiegabile per cui tu senti il sacerdote in chiesa che legge brani dell'Antico Testamento che filosoficamente parla di un dio pluriumicida che va in spedizione a conquistare terre facendo 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 stragi di nemici e così via che non si concilia molto bene con il messaggio che abbiamo del Nuovo Testamento non so se tu hai delle riflessioni a questo riguardo sì sì ne ho di molto chiare allora io non mi occupo pubblicamente del Nuovo Testamento perché adesso voglio occuparmi ho scelto così ho cominciato così e quindi per il momento vado avanti così mi occupo dell'Antico Testamento il Nuovo Testamento però l'ho letto in greco e l'ho studiato nel corso della mia vita l'ho letto in greco almeno una quindicina di volte quindi l'ho studiato molto bene però non ne parlo è a maggior ragione interessante sentire cosa ne pensi allora le tesi gnostiche che tu hai così fedelmente esattamente riportato in effetti sono ovviamente il prodotto del pensiero ellenistico del tempo e questo pensiero ellenistico però ha colto una verità cioè che il Dio dell'Antico Testamento non è il Dio buono è un governante poi possiamo definirlo malvagio pluriassassino possiamo riconoscere il fatto che se non faceva così non raggiungeva il suo obiettivo perché lui ha preso un insieme di persone individui anarchici allevatori di capre o cose del genere e l'ha dovuto trasformare in un popolo quindi quando lui diceva voi siete un popolo di dura cervice beh insomma come dire voi capite soltanto le bastonate e lo possiamo capire quindi possiamo non dico giustificare ma capire perché lui ha dovuto attuare certi metodi di una ferocia poliziesca indescrivibile quindi quando gli ignostici dicono che il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento ecco se vogliamo sottolineare un possibile non so come dire un errore ma è una parola grossa commesso dagli ignostici è usare la parola Dio la parola Dio non era un Dio però che l'Antico Testamento fosse sotto un individuo che certo non era un individuo buono un individuo che amava l'umanità beh questo gli ignostici l'hanno capito chiarissimamente e quindi ed è la stessa cosa che dico anch'io se poi esiste Dio cosa di cui io non mi occupo perché io di Dio non so nulla del Dio diciamo dell'eventuale Dio vero io non so nulla e ho la buona abitudine di non parlare di cose che non conosco quindi io non ne so nulla ecco se poi esiste Dio beh è un'altra cosa cioè se esiste un Dio creatore dei cieli e della terra un Dio di amore benissimo esiste non lo metto in discussione perché io non ne so nulla di certo non è il Dio della Bibbia così come quando nel nuovo libro io documento che la Bibbia non parla di creazione io non intendo dire che non è mai esistita la creazione in assoluto perché io non lo so come sia nato l'universo questa è una domanda alla quale possono rispondere da un lato la fede per i credenti dall'altro prima o poi magari forse risponderà la scienza io dico solo che la Bibbia non parla di creazione non che non ci sia mai stata la creazione in origine perché io non so come sia nato l'universo mi spiego quindi quando gli gnostici dicono che questo Yahweh della Bibbia non è il Dio buono il Dio d'amore hanno totalmente assolutamente ragione proprio è totalmente assolutamente un'altra cosa interessante molto interessante non so se siamo ancora nell'ambito dei fatti o di quello che emerge dalle traduzioni o se siamo già spingendoci nell'ambito della speculazione ma questi Elohim che governano la vita di diverse popolazioni fra cui quella ebrea per così tanti secoli se non millenni cioè com'è che scompaiono dalla vita di questo pianeta o forse dovrei dire se scompaiono o se per caso a tuo parere ancora potrebbero stare influendo in questo preciso momento magari nella storia umana o manipolando dietro le quinte i nostri destini allora siccome la Bibbia non dice nulla in merito e io cerco di attenermi alla Bibbia perché altrimenti poi mi dicono che faccio l'ufologo e quindi insomma già me ne dicono troppe quindi vorrei evitare di mettere sul fuoco altra benzina ecco esattamente perché poi ogni parola che io dico viene presa e mi viene come si dice ogni cosa che dici potrà essere usata contro di te e in questi due anni ti garantisco che veramente questo sta avvenendo con una precisione veramente chirurgica allora diciamo questo diciamo questo che la Bibbia non ci dice nulla cioè da un certo punto in avanti si capisce solo il rapporto con questi qui non c'è più quindi ti rispondo guarda con le parole di un reverendo presbiteriano statunitense di New York il reverendo Barry Downing il quale dal punto di vista della interpretazione ufologico lui è un credente in Dio lui svolge regolarmente il suo ministero di pastore presbiteriano quindi proprio anche a conferma di quello che ho detto due minuti fa che se poi esiste Dio è un'altra cosa ma quindi Dio può esistere quindi è ovviamente oggetto di fede allora lui dal punto di vista delle interpretazioni bibliche ufologiche è molto più avanti di me io sono molto più cauto rispetto a lui e lui ripeto è un pastore presbiteriano lui dice che questi qui sono venuti qui che la religione mosaica è il frutto del loro intervento chiaramente lui non ha nessun dubbio e che questi qui ancora controllano come si stanno sviluppando le cose questo lo dice padre Barry Downing col quale io tra l'altro rapporto diretto nel senso che ci scambiamo studi su una serie di passi biblici Mauro che dire a parte che dire a tutti gli ascoltatori che a questo punto Mauro Biglino ci ha dedicato se il mio cronometro non è errato già ben più di un'ora e quindi ringraziarti tantissimo sicuramente raccomandare a tutti gli ascoltatori assolutamente innanzitutto se uno ama vedere guardare ascoltare ci sono un'infinità di video delle conferenze che Mauro Biglino tiene settimanalmente in tutta Italia ormai da tanto tempo e devo dire infaticabilmente perché vedo che sei costantemente ogni weekend in una diversa città io ho una fortuna che vivo da solo quindi non devo discutere i miei orari e la mia vita con nessuno perché la mia vita è stata completamente stravolta come puoi immaginare e io vado solo dove mi chiamano cioè io non ho mai organizzato una conferenza e se la gente smette di chiamarmi io torno a fare ciò che facevo fino a due anni e mezzo fa che al sabato e la domenica io pratico ciclismo al sabato e la domenica io faccio ciclismo sulle Alpi Italo-Francesi cosa che ho dovuto abbandonare ma ripeto se la gente io non ho la vocazione come dire del missionario devo andare a predicare se la gente smette di chiamarmi o di fare conferenze perché non ne ho mai organizzato una in vita mia devo dire che ne ho di prenotate fino a novembre dell'anno prossimo però quindi temo che la gente caspita incredibile Mauro riepilogaci quali sono i libri che hai scritto fino ad ora e se vuoi dirci quali sono i tuoi progetti futuri o quelli che hai più a cuore o dove vedi andare il tuo lavoro insomma allora visto che abbiamo parlato anche di massoneria io ho scritto un libro che si intitola chiesa romana cattolica e massoneria realmente così diverse caspita questo interesserà tantissimi dei nostri ascoltatori poi ed è un libro che non fa dietrologia ma mette a confronto i principi fondanti delle due organizzazioni così come sono dichiarati nei loro testi ok un'analisi parallela sinottica diciamo così poi ho scritto il libro che si intitola così un titolo che insomma non è che mi piaccia ma insomma alle volte i titoli vengono discursi con gli editori il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia poi ho scritto il dio alieno della Bibbia e a fine ottobre esce non c'è creazione nella Bibbia hanno immagine una sorta di progressione nel discorso che fanno quindi magari sarebbe consigliabile guardarsene in un certo ordine allora diciamo che l'ordine esatto sarebbe quello che io ho detto però siccome appunto io non posso chiedere alle persone di comprarsi tutti i libri se vogliono conoscere le mie idee allora cosa succede che nei libri che pubblico io riprendo le idee espresse ovviamente parlo sempre di cose nuove ma nel contempo riprendo anche dei temi espressi nei libri precedenti e li sviluppo ulteriormente quindi volendo insomma voglio dire non è che devo dire compratevi tutti e tre i libri biblici no fate come volete tanto riuscite a capire che cosa pensi ah bene altri progetti futuri veramente sarei più spesso diventerai famoso in America allora io è che se io dirlo ma io sono sicuramente più conosciuto negli Stati Uniti che in Italia anche se là un libro anche se là un libro cartaceo non c'è ancora so che in un libro di Jim Marsh che è uno che vende decine di milioni di coppie mi ha già scritto che nel suo libro che esce a fine febbraio mi citerà tre volte vabbè poi ci sono dei programmi insomma a livello internazionale che però per scaramanzia per adesso non le parlo e poi per restare in contatto con il tuo lavoro c'è anche il blog che probabilmente cura qui per restare in contatto con il mio lavoro la cosa migliore è iscrivervi perché io non posso più avere amici perché sono già 5.000 quindi Facebook non mi fa più aggiungere c'è il gruppo che si chiama il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia quindi basta iscriversi a quel gruppo lì e rimaniamo in contatto gruppo Facebook perfetto Mauro come ringraziarti per tutto il tempo la saggezza le conoscenze che ho condiviso con noi grazie davvero ripeto siamo ben oltre l'ora quindi ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare ti auguro tutto il meglio per il proseguimento delle tue ricerche dei tuoi studi del tuo lavoro sono io che ringrazio voi dell'interesse per il mio lavoro che è una cosa che lo dico francamente mi stupisce sempre perché non riesco vabbè comunque niente ho cominciato così nel modo in cui vi ho raccontato e adesso ormai come dire sono finito nella pista da ballo e continuo a ballare perché non ne posso più uscire ok molto bella questa immagine Mauro di nuovo tante grazie e buon proseguimento ciao ciao a tutti e grazie a voi grazie grazie ciao 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 a tutti questa direttiva del Vaticano non bisogna più parlare di Yahweh non dobbiamo più usare questa parola nelle scuole nei catechismi nei libri di testo e così via perché perché nelle parole di Bellino Yahweh è il personaggio descritto nella Bibbia su cui poi la religione definita cristiana ha costruito il concetto religioso di Dio ora questo concetto religioso di Dio che non so come lo vogliamo definire perché ogni persona poi lo definisce diversamente da tutti gli altri definiamolo come un qualcosa di più grande di noi che esiste da prima di noi e continua dopo di noi bene questo concetto religioso di Dio è rispettabilissimo che questa entità esiste sia solo una così via è rispettabilissimo l'importante è comprendere che la Bibbia non dice che esiste la Bibbia non ne parla la Bibbia non dice che è soltanto uno la Bibbia non dice che è buono anzi se è per questo la Bibbia non dice che è un Dio d'amore men che meno non dice che ha creato la razza umana non dice che l'ha creata per amore in pratica non dice nulla di tutto quello che impariamo al Catechismo se dobbiamo credere alle interpretazioni alle traduzioni di Mauro Biglino ora tolta di mezzo questa autorità biblica a cui viene fatto risalire questo concetto religioso uno dei tanti concetti religiosi come per esempio il concetto religioso di Dio ognuno ovviamente rimane libero di fare le sue scelte e voglio crederci per una scelta personale benvenga voglio crederci perché la Chiesa di Roma afferma comunque la sua esistenza anche se queste affermazioni non si basa sull'autorità biblica oppure posso anche credere perché lo decido io liberamente posso credere quello che voglio purché mi rendo conto di quello che sto facendo mi rendo conto di essere una persona libera e che sto decidendo io ciò in cui credo un'altra riflessione che faccio e uno si potrebbe obiettare non so se questa cosa interessa soltanto a me e a noi agli altri però io credo che la fede sia importante la fede nella vita di una persona è una dimensione estremamente importante e allora per me e qui mi sto rivolgendo agli amici cristiani e credenti ma non solo a loro a chiunque altro ci si potrebbe giustamente chiedere che diritto abbiamo di danneggiare la fede di minare la fede di un'altra persona magari la fede su cui un'altra persona ha appoggiato tutta la propria vita o magari su questo concetto religioso di un Dio biblico o di un Dio di pace o di un Dio di amore e così via immagina una persona anziana che va tutti i giorni a messa veramente questa mi sembra una specie di una specie in via di estinzione quando ero piccolissimo quando ero piccolino ce n'erano tantissime adesso non mi sembra che ci sono tante persone anziane che vanno tutti i giorni a messa comunque a parte questo immagina che ci sia una persona religiosissima anziana che trae da questo concetto religioso di Dio e da altri concetti biblici l'ispirazione verso il bene è proprio qui che volevo arrivare questa è una questione fondamentale in quanto esseri umani a mio umile parere noi abbiamo bisogno di rivolgere la nostra mente verso il bene per la nostra stessa felicità per la nostra stessa sanità mentale noi abbiamo bisogno di rivolgerci al bene poi c'è chi fa questo usando la morale il senso etico chi fa questo usando usando le proprie riflessioni il proprio giudizio la propria intelligenza lo studio della filosofia la sua sensibilità personale chi lo fa usando valori laici valori civili come si dice c'è chi lo fa ispirato ad altri insegnamenti spirituali come per esempio l'insegnamento sul karma dei buddhisti io appartengo a questa stirpe in cui si dice che se tu fai il bene questo sarà causa della tua felicità futura e della felicità degli altri se tu fai il male questo sarà causa della sofferenza futura tua e degli altri poi c'è invece chi trae la propria ispirazione verso il bene da un concetto religioso come il concetto religioso di Dio Dio ci ha creato per amore quindi siamo fratelli in Dio dobbiamo amare Dio e dobbiamo amarci fra di noi supponiamo che venga a mancare ma ripeto l'esempio vale per la Bibbia così come potrebbe valere per un buddista così come potrebbe valere per un musulmano così come potrebbe valere per qualsiasi aderente di qualsiasi dottrina religiosa se viene a mancare la base di appoggio religiosa noi rischiamo di perdere la nostra ispirazione verso il bene e allora la domanda a mio avviso giusta è noi che diritto abbiamo di disorganizzare la vita di altre persone danneggiando la loro fede la mia risposta o la mia riflessione la risposta a cui sono arrivato fino a questo momento è questa personalmente io sono sempre non sono neutrale sono sempre come dire sbilanciato dalla parte della verità nel senso che sono sono un amante della verità e sono un ricercatore della verità e penso che la verità è sempre liberatoria fa sempre bene conoscerla anche quando fa male immagina quel genitore che dice mio figlio è il più bravo ragazzo del mondo un ragazzo adorabile un ragazzo per bene e poi magari scopre o meglio la realtà è che questo ragazzo è un tossicodipendente all'ultimo stato un mezzo delinquente e lo sa tutto il mondo tranne i genitori che ancora non se ne sono accorti ecco io dico è sempre meglio conoscere che chi non conosce che non conoscere cioè chi preferisce non sapere niente e chi ama la verità io sono uno di quelli che ama la verità e a partire da quello poi si possono prendere decisioni migliori e più informate senza di quello non abbiamo neanche la libertà di prendere decisioni poi che altre riflessioni ci sono sempre a questo proposito visto che rivolgerci al bene in quanto esseri umani nella nostra vita è così importante e allora è giusto che noi basiamo la nostra ispirazione verso il bene non su un unico e solo concetto religioso ma cerchiamo almeno di basarlo sul maggior numero possibile di ragioni valide quindi ragioni logiche ragioni etiche ragioni morali ragioni civili ragioni laiche ragioni filosofiche ragioni spirituali ragioni karmiche chiamale come le vuoi così se una di queste idee dovesse essere messa in crisi dentro di noi nella nostra fede interiore almeno ne abbiamo almeno altrettante di ragioni valide per rivolgere la nostra mente verso il bene per esempio ancora una volta mi rivolgo a tutti gli amici cristiani credenti immagina tutte le polemiche che esistono al mondo in questo preciso momento cioè il dibattito sulla reale esistenza storica di Gesù e questa è un'altra can of worms dicono gli americani una lattina piena di verme che se la scoperchiamo non si capisce più dove andiamo a finire perché in Italia questo dibattito è appena all'inizio ma in America sono vent'anni che in lingua inglese ci sono libri contro libri risposte ai libri ririsposte ai libri è un argomento su cui si appunto si sta mettendo il coperchio sulla pentola a pressione ma presto prima o poi esploderà non può essere rimandato più di tanto il dibattito sulla reale esistenza storica di Gesù cioè che significa se è veramente esistito dove è veramente esistito quando è veramente esistito e come è veramente esistito cioè chi era veramente qual era la sua identità e così via faccio questa parentesi perché ho letto tantissimo su questo argomento anche campane totalmente diverse l'una all'altra ma è veramente c'è tantissimo da scoprire questo proposito ora immagina per un attimo se la storia e la conoscenza moderna dovessero arrivare alla conclusione incontrovertibile che Gesù è una favola che non ha mai esistito in quanto tale ma guarda mi ci metto pure io immaginiamo pure che si arriva alla conclusione che anche il Buddha è una favola o che Maometto è una favola che i grandi profeti in altre parole se uno ha riposto tutta la propria ispirazione verso il bene in un unico e solo punto di riferimento cioè la figura di Gesù così come quella di Buddha così come quella di qualcun altro cosa fa questa persona quando gli crolla quel punto di riferimento che fa? diventa cinica? diventa rabbiosa? non crede più in nulla? perde la fede? perde ogni valore ogni punto di riferimento? a mio parere no e qui si tratta di elevare la coscienza spirituale dell'umanità in modo che se questo accadesse la gente non sarebbe disorientata perché queste e molte altre cose secondo me stanno per accadere quindi va bene il Buddha non è mai esistito va bene Gesù come è descritto nei Vangeli non è mai esistito però però amarsi gli uni con gli altri rimane la cosa più importante ama il prossimo tuo come te stesso rimane la cosa più importante non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te stesso rimane la cosa più importante rivolgere la mente al bene alla felicità degli altri esseri viventi nella vita di tutti i giorni rimane la cosa più importante una vita spirituale non solo una vita che insegue interessi mondani rimane una cosa estremamente importante migliorare se stessi per fare del bene agli altri rimane la cosa più importante di tutti di tutte nella nostra vita dall'inizio alla fine quindi ecco perché penso dovremmo ampliare il nostro orizzonte spirituale evolverci spiritualmente e basare la nostra spiritualità sul maggior numero possibile di stimoli virtuosi e positivi che è possibile queste erano giusto le mie riflessioni sparpagliate spero di non aver annoiato nessuno erano riflessioni che a me stanno abbastanza a cuore rieccoci così all'angolo degli ascoltatori ti ricordo nel forum di Tempo di Cambiare www.tempodicambiare.it slash forum ci sono tantissime discussioni interessantissime in corso di svolgimento anche o soprattutto su tutti gli argomenti di cui parliamo in questo in questo podcast ci sono aggiornamenti sui lavori all'interno dei vari gruppi di studio e così via e c'è anche una una sezione del forum in cui è possibile fare domande riflessioni commenti feedback su questi podcast comprese le domande a me e che anche questa volta ne sono arrivate tantissime e per cui ringrazio tutti quelli che in maniera partecipata fanno domande e chiedo scusa se riesco a rispondere soltanto ad alcune di queste perché sono semplicemente tante e a questo proposito stavo pensando quando dicevo prima che sto meditando di riportare la la frequenza di questo podcast da quindicinale a settimanale perché perché si potrebbe dedicare una edizione settimanale all'intervista e la settimana successiva dedicare una una edizione invece a riflessioni domande risposte feedback anche dibattiti sulla sull'intervista della settimana precedente e così anziché avere un podcast un episodio lungo più di due ore ogni 15 giorni si potrebbe avere due episodi lunghi un'ora o poco più ogni settimana e sarebbe forse più comodo più significativo sotto molti punti di vista comunque adesso questa è la mia nuova idea che cercherò di implementare nel prossimo futuro probabilmente dopo Natale e non prima comunque vediamo un po' di domande che sono arrivate la prima è di Paolo a cui vanno i miei saluti Paolo ci conosciamo di persona il titolo è ciao Italo aiuto mi sono perso puoi farmi un riassunto ciao Italo sono Paolo Cerico la scuola di respiro ho seguito tutto fino a luglio ed agosto non sono potuto venire a Montegrotto perché avevo un lavoro programmato già da un anno prima a Ischia quando sono tornato a settembre ho cominciato a perdermi un po' per il tempo disponibile un po' perché sul forum ci sono un sacco di cose in ballo come ben sai un overload di informazioni non so più da che parte guardare e o dare anche il mio contributo magari se puoi fare un breve riassunto o in quale direzione guardare perché sinceramente ogni volta che arrivo sul forum vado in costernazione talmente tante le informazioni e le chiacchiere varie ti propongo intanto anche questo tema cambiare il modo di nascere per smettere di fare la guerra ti ringrazio molto e un abbraccio Paolo Paolo grazie per il suggerimento sulla nascita che è anche un argomento molto importante e sì sono contento di rispondere a questa domanda perché probabilmente può sicuramente può essere utile anche ad altri ascoltatori che hanno un interrogativo simile che si affacciano nel forum e vedono un'incredibile quantità di discussioni in corso io dico sempre lo dico sempre qui nei miei episodi ti perdi molto se non segui il forum dico poi il forum è parte integrante di questo podcast e così via però attenzione non vorrei suscitare il problema opposto o meglio non vorrei suscitare l'ossessione opposta cioè da che uno è disinteressato alle cose che accadono nel mondo diventa stressato e in sovraccarico di informazioni no questo è da evitare ogni qualvolta che tu senti questo sintomo fermati e fai un respiro profondo lo dico a Paolo ma in realtà lo sto dicendo a tutti non c'è nessun obbligo di seguire il forum anzi ti dirò di più è materialmente impossibile seguire il forum al 100% e non conosco nessuno che sia in grado di farlo semplicemente perché le discussioni sono tantissime allora uno si lascia un po' guidare dall'intuito dalle proprie interessi principali legge i titoli delle discussioni e vede se ne trova qualcuna che gli interesserebbe approfondire e così via insomma io direi principalmente non ti mettere addosso un dovere che non sta né in cielo né in terra e poi ascolta il podcast ascolta il podcast che in termini di tempo non costa nulla numero uno perché è ogni 15 giorni numero due perché come sempre ripeto non te lo ascoltare seduto davanti al computer che è contro natura è innaturale perché il tuo corpo vorrebbe muoversi e fare altro e poi finisce che navighi navighi dal computer vai su facebook e sulla posta elettronica e quindi ne fai quello che devi fare per bene e ne ascolti con attenzione secondo me seguire il podcast l'audio non costa nulla se te lo riversi su uno smartphone su un ipod e così via e te lo ascolti strada facendo mentre cammini per strada cucini fai servizi di casa le pulizie ti trasferisci in tram in autobus per andare al lavoro o quello che fai normalmente nella vita tutti i giorni secondo me se uno lo usa in questa maniera è impossibile rimanere indietro perché i tempi morti che abbiamo nella vita di tutti i giorni quando semplicemente potremmo metterci un paio di auricolari e ascoltare qualcosa che è utile per farci riflettere questo tempo ce l'abbiamo tutti nessuno può dire che non ce l'abbiamo e quindi che altre raccomandazioni non cercare il filo logico perché non esiste non esiste quindi un riassunto che io possa farti ogni puntata è una pillola per nutrire la tua consapevolezza e poi tieni presente ogni puntata è completa ed è finita in se stessa specialmente adesso che ogni puntata è prevalentemente dedicata a un'intervista diciamo che ogni episodio ti aiuta a pensare con la tua testa affinare la tua consapevolezza e a fare un'altra pagina nella strada un altro passo nella strada della nostra ricerca questa è la domanda di Paolo che ringrazio e spero che questa risposta possa essere utile anche ad altri poi un'altra domanda è di Matt ciao Matt che si intitola Ukadia ciao Italo sono un po' dispiaciuto che non si parli più di Ukadia ho trovato questo argomento il più interessante trattato fino ad oggi si era partiti bene traducendo parti fra tutti poi di colpo il nulla cosa è successo? spero si possa tutti insieme riprendere le ricerche grazie a Matt la tua testimonianza è molto importante e il tuo interesse è sicuramente condiviso da molti altri e credo che questa sia una cosa da chiarire sono ben felice di poterlo fare pubblicamente non solo per te ma per tutti da questo microfono diciamo che Ukadia dici bene è uno di quegli argomenti che ha suscitato più entusiasmi formidabili fra tutti gli argomenti trattati in questo podcast per chi fosse arrivato in ritardo Ukadia è un argomento veramente che giudico importantissimo di cui potrai sentir parlare ottavo, nono, decimo undicesimo episodio e anche successivi ha suscitato entusiasmi formidabili fra l'altro ha anche suscitato critiche formidabili ma queste secondo me queste ultime più banali da parte di quelli che dicono ah è un altro tentativo di costruire il nuovo ordine mondiale e così via critiche secondo me quelle dozzinali tipiche di quelli che criticano tutto e tutti io ho approfondito personalmente la conoscenza sia di Ukadia sia la conoscenza del suo fondatore Frank O. Collins abbiamo parlato più volte su Skype ed abbiamo continuato a farlo anche in seguito quando io ho smesso di parlare sul podcast ho conosciuto anche alcuni suoi collaboratori stretti uno canadese e uno australiano sempre su Skype e la mia opinione rispetto a quegli episodi entusiastici del podcast in cui ne parlavo tantissimo non è cambiata cioè Ukadia a mio umile parere è davvero l'idea più geniale più congruente più coerente più ad ampio respiro in cui mi sono imbattuto in tutte le mie ricerche in questi mesi e spero con tutto il mio cuore che in futuro Ukadia possa crescere prosperare farsi conoscere far parlare di sé avere sul mondo quell'impatto positivo che veramente si merita di avere se questo accadrà e se coloro che guidano e ispirano Ukadia sono capaci di realizzare questo io sarò il primo a rimettermi in gioco e a dare il mio contributo per far crescere quest'idea però quello che non mi andava di fare e rispetto a cui mi sono frenato è quello di essere io quella persona che raccoglie il testimone e inizia a propagare a divulgare a quattro venti la dottrina di Ukadia e che se ne fa in qualche modo il paladino perché è una cosa a cui alcuni mesi fa avevo pensato seriamente per non dire che ero stato lì per farlo perché mi sono frenato dal far questo perché dall'altra parte del microfono dall'altra parte di Ukadia mi sono ritrovato a interloquire con una organizzazione che da anni teorizza nei minimi dettagli un nuovo sistema che però non ha mai fatto diciamo nulla di pratio concreto militante come dire per diffondere questo potrebbe essere un bene perché uno potrebbe dire ok loro sono i teorici noi siamo quelli che ci rimbocchiamo alle maniche e realizziamo quest'idea ed è proprio in questa chiave che io volevo rendermi utile e mettermi al servizio di quest'idea però però ecco come dire teorizza nel senso che quello che loro hanno teorizzato è un bene perché loro hanno messo giù tutti gli articoli della legge di legge possibile immaginabili tutti i libri codici e canoni diritto possibili per una società finalmente unica universale e giusta ecco però un'altra 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 caratteristica trovata dall'altra parte nei miei interlocutori è un'organizzazione abbastanza verticistica cioè Ukadia è Frank Collins ed è lui unico e solo che decide tutto punto questo non è un giudizio definitivo che io sto dando su di lui sono sempre pronto a ritrattarlo lui afferma che ha completato questa grande opera titanica e colossale di canoni libri di legge che adesso metterà tutto questo al servizio degli altri e non appena partiranno i campus le università le province e così via saranno loro a prendere in mano il controllo della situazione a livello locale e anche a livello globale per cui lui si farà in disparte e quello che è stato creato verrà messo al servizio dell'iniziativa degli altri quindi sono pronto a rivedere quello che ha appena detto però in questo preciso momento è un'organizzazione verticistica dove Collins decide tutto ed è Collins il solo a decidere non solo questo perché questo potrebbe non essere un male spesso la democrazia porta più confusione che benefici però ecco quello che ho trovato dall'altra parte è una organizzazione chiamiamola così profondamente rifrattaria a ogni tipo di feedback 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 migliorativi consigli io ho più riprese personalmente a lui Frank Collins su Skype gli ho offerto il mio feedback su cose che secondo me andavano a migliorare suggerimenti alcuni di quali anche elementari come per esempio ehi amici cari il vostro latino è completamente sbagliato qua in Italia se uno capisce il latino e inizia a leggere le vostre traduzioni si mette a ridere pensate che siete degli ignoranti quello non è il modo giusto di tradurre il latino e quindi io non solo ho offerto il mio feedback su queste e altre cose da migliorare ma ogni volta ho offerto anche le risorse per mettere in pratica i miei feedback una volta ho detto Collins oh Collins ti posso posso fare una donazione economica in cui metto a disposizione una persona e gli pago io uno stipendio a questa persona per rifare di sana pianta tutte queste traduzioni strampalate in latino che non stanno né in cielo né in terra bene questi feedback sono caduti nel nulla le mie offerte sono cadute nel nulla ora siccome la mia vita il mio tempo le mie energie le mie risorse non sono illimitate allora io mi sono fermato e quindi questo adesso lo dico pubblicamente mi sono fermato al buttarmi anima e corpo una cosa su cui non ho nessun controllo non ho nessuna voce in capitolo e a questo punto per quanto mi riguarda la prossima mossa tocca a lui a Franco Collins e tocca a Ocadia se il sistema di cui lui parla e che lui va teorizzando la decennia e che lo sta facendo bene perché è importantissimo creare le basi di legge altrimenti dopo ogni rivoluzione risorge il caos e in quel caos i soliti noti riconquistano il potere con un nome diverso e allora è importantissimo quello che sta facendo Franco Collins di creare la legge i canoni di legge di quello che sarà il futuro mondo giusto più giusto per tutti quindi con il problema delle banche delle energie della salute della medicina di tutti gli argomenti fondamentali che creano tutte le strutture di questo mondo quindi se questo sistema che lui sta teorizzando così meravigliosamente si trasforma in realtà però deve essere lui a farlo questo deve essere lui a fare il salto dalla teoria alla pratica allora io prometto che riprendo in mano questa cosa che ho volutamente messo in stand by nella mia vita e la riprendo in considerazione spero che questa sia una risposta soddisfacente penso che era una spiegazione dovuta perché sicuramente Matteo non era l'unico che diceva perché prima Italo parlava tanto di Eucadia e adesso ho smesso completamente di parlare quindi era una spiegazione da parte mia doverosa un'altra domanda per oggi viene da Emanuela Emanuela scrive i ricordi dell'anima ciao Italo ho una domanda che mi assilla da un po' e speravo che tu potessi rispondere si dice che le nostre anime vengano sulla terra con uno scopo ben preciso cioè quello di imparare determinate cose e fare determinate esperienze nel momento in cui esse si incarnano però noi dimentichiamo il motivo per cui si sono incarnate e questo genera molti dei nostri problemi poiché l'anima vuole andare da una parte e spesso noi vogliamo andare da tutt'altra per cui mi chiedo e ti chiedo esiste un modo per ricordare a noi stessi cosa è venuto a fare la nostra anima qui? grazie mille Emanuela Emanuela assolutamente sì certo che esiste il modo per ricordare chi sei e questa è la ragione stessa della tua vita ed è l'opera stessa di una vita intera certo non si ottiene così come tu chiedi con un metodo semplice in cui schiaccia il bottone e ottiene il risultato questa precisamente che tu hai detto è l'opera di una vita intera si cerca si tenta si sbaglia a strada ci si corregge si cerca di ricordare chi siamo e non si finisce mai di crescere non si finisce mai di imparare non si finisce mai di migliorare ed è proprio per questo che la nostra vita è così emozionante così avventurosa e così ricca quindi continua a cercare Emanuela questa è la cosa più importante continua a cercare continua a cercare di ricordare perché il trovare dipende esattamente dal fatto che tu stai cercando se poi tu decidi di praticare un sentiero spirituale ancora meglio la tua strada e il tuo ricordare sarà ancora più veloce quella che potrebbe essere invece l'ultima domanda per oggi probabilmente e sempre chiedo scusa a tutti gli altri viene da Teresa ciao Teresa vediamo se trovo la domanda di Teresa proposta di chiarimento della discussione sul nuovo paradigma ho letto il testo di nuovo paradigma di Francesca Chiara e mi è piaciuto moltissimo non sono molto ferrata per quello che riguarda l'economia ma sia leggendo il testo che guardando il video di Brescia con Francesca Chiara nonno Mario e Gervais non ho avuto la sensazione che il progetto fosse utopistico né che con questo progetto potremmo diventare schiavi del lavoro a me è sembrato chiarissimo da subito che quello che è richiesto non è lavoro ma servizio e che ciascuno può dare secondo le sue possibilità credo che chiunque accetterebbe di lavorare due mesi e poi averne 10 liberi e senza problemi finanziari indubbiamente molte persone si darebbero la pazza gioia avendo la sicurezza dal punto di vista finanziario ma per quanto tempo faccio un esempio io sono in pensione da diversi anni eppure avendo avuto un lavoro che amavo i primi mesi mi sono sentita molto più libera ma poi ho avuto la possibilità di dedicarmi all'attività che amavo rendendo anche un servizio agli altri ho fatto ricorso di grafica gratuiti via internet per l'uso del programma Paint Shop Pro e altre attività che non sto ad elencare mi piacerebbe moltissimo un chiarimento di quella che sembra una polemica nel prossimo post di Italo e l'intervista a nonno Mario che è stata proposta mi sembra un'ottima occasione grazie Teresa sono io che ringrazio te innanzitutto vorrei chiarire che non c'è nessuna polemica in corso di svolgimento il mondo è bello perché è vario ed è bella la differenza di opinioni e che ognuno ha la sua il nuovo paradigma economico della nostra amica comune Francesca è molto interessante però a mio parere del tutto personale ovviamente si può non essere d'accordo così com'è non si regge in piedi adesso lo sintetizzo lo semplifico al massimo per quelli che non sanno di cosa sto parlando è una visione economica una visione di nuovo paradigma economico in base alla quale tutte le persone di una certa società che può essere idealmente tutto il mondo però nulla esclude che si potrebbe applicare su scala anche più piccola e questo è un bene di questo progetto piccolo o grande che sia tutte le persone di una certa società usano un unico conto corrente cioè io ti vendo una scamorza tu mi paghi io verso quello che tu mi paghi in un conto corrente è quel conto corrente lo stesso a cui tutti quanti andranno poi ad attingere per i loro bisogni di conseguenza non occorrerà più lavorare otto ore al giorno e ammazzarsi sudare fare sacrifici e così via perché in base a quello che sono anche le scoperte tecnologiche energetiche della nostra società attuale basta che ciascuno offra due mesi di servizio all'anno e gli altri dieci sarebbe liberissimo di prendersi come vacanza o per servizio missione e così via la società sarebbe molto più ricca è molto più felice di quello che è adesso anche se ciascuno lavora solo due mesi all'anno ora io questo non dubito che questa sia un'idea geniale e di fatto lo è e neanche attenzione Teresa io non dubito che la gente lavorerebbe volontariamente non è questa la mia obiezione sono assolutamente certo che nessuno può stare senza fare nulla per molto tempo e che ciascuno presterebbe il proprio servizio il proprio lavoro per due mesi all'anno non sono queste le obiezioni naturali che fa sorgere questo tipo di progetto secondo me ci sono diverse obiezioni molto molto valide ben fondate una delle quali è che questo progetto richiede un prerequisito e questo per me è un problema questo per me è un ostacolo questo progetto richiede per essere implementato un prerequisito cioè che la gente abbia prima raggiunto un livello di maturità spirituale tale da rinunciare al proprio egoismo o a una parte del proprio egoismo e mettersi spontaneamente e volontariamente al servizio della comunità questo come giustamente l'ha detto la stessa presentatrice Francesca ideatrice di questo progetto quando l'ho presentato ad Abba Noter mi ha detto questo va di pari passo con l'educazione dei bambini dei giovani delle nuove generazioni perché ovviamente richiede come prerequisito un maggior livello di maturità spirituale degli esseri umani siccome io guarda caso mi occupo di sviluppo spirituale da 25 anni e so quanto sia difficile e lentissimo per noi altri esseri umani migliorarci perché perché siamo incapaci di vedere i nostri difetti questo è il problema della nostra della nostra questo è il dramma della nostra condizione umana allora è come dire a me non piacciono le cose che richiedono troppi prerequisiti sono troppo lente io preferisco soluzioni più veloci più pratiche più semplici che funzionano a risolvere i problemi almeno in parte ecco perché la moneta alternativa è secondo me una soluzione molto più veloce la moneta alternativa di cui stiamo parlando anche in tempo di cambiare il reddito di cittadinanza di cui parlava di cui parla il professor Bellia e così via è molto più veloce come metodo la modern money theory è molto più veloce la sovranità nazionale della moneta è molto più veloce cioè caspita iniziamo a togliere di mano il denaro dalla proprietà privata dei banchieri questo sì che è urgente questa è una cosa urgente importante da fare subito quando avremo tolto la moneta dalle grinfie dalla proprietà privata dei banchieri allora parlieremo alle utopie umanistiche che richiedono prerequisiti di perfezionamento spirituale quello siamo sempre in tempo a farlo in un secondo momento quello che è più urgente è secondo me togliere la moneta a chi la sta usando così malamente in questo momento questa è solo un'obiezione un'altra obiezione può essere anche il fatto che come dire personalmente mi appassiona cercare soluzioni che possono essere applicate fin da subito senza aspettare che la società nel suo insieme le adotti ecco perché per me la moneta alternativa quello che stiamo facendo con Flavio e gli altri gruppi di ricerca sulla moneta è meglio del reddito di cittadinanza è meglio della modern money theory è meglio della sovranità nazionale della moneta perché queste cose richiedono che la società le adotti nel suo insieme e quindi sono più lente il reddito di cittadinanza che è un'utopia bellissima e meravigliosa non può essere applicata se non da una nazione intera che decide di applicarla la moneta alternativa può essere applicata in piccola scala sia pur con enormi ostacoli però può essere una cosa che cresce al di fuori cresce al di fuori di quella che è la realtà e i canoni conosciuti e poi cresce gradualmente ecco io ho una parzialità e una preferenza nei confronti di quei sistemi che si possono applicare dal basso fin da subito e senza chiedere l'autorizzazione agli altri se sono fatti a fin di bene questa è la mia preferenza e questa è diciamo e questa è un'altra obiezione che muovo a questo questo concetto perché con questo con questo ovviamente con il discorso del nuovo paradigma economico non si può fare un'altra obiezione che ho come vedi o svariata di obiezione è che per funzionare questa teoria o questo paradigma richiede una specie di vigilanza verso il basso cioè che significa vigilanza verso il basso cioè bisogna evitare e già questa è una parola chiave bisogna evitare già mi evoca l'idea di uno stato di polizia bisogna evitare a che nessuno si approfitti del sistema cioè che tutti facciano due mesi di solido lavoro all'anno e non soltanto dieci mesi di vacanza ma vogliono anche lavorare e che non se ne approfittino lavorando meno degli altri e godendo i frutti più degli altri quindi numero uno bisogna vigilare che nessuno si approfitti del sistema numero due bisogna vigilare e questo è forse ancora più importante che non rimangano vacanti quei lavori umili che nessuno vuole fare nella società entrambe queste cose richiedono o un livello di servizio disinteressato di virtù di altruismo di santità oserei dire che l'umanità fino ad oggi non ha mai conosciuto oppure richiedono un controllo da parte di un'istituzione centrale che verifica che nessuno si approfitta del sistema e che verifica che non rimangono vacanti lavori umili che nessuno voglia fare cioè che li assegni più o meno forzosamente tutto questo ora siccome questa idea del controllo da parte di un'istituzione centrale ha un preciso nome si chiama anzi ha preso diversi nomi nel corso della storia si chiama ora comunismo ora nazionalsocialismo ora fascismo ora collettivismo ma è sempre la stessa minestra riscaldata è un'istituzione centrale che deve regolare la vita delle comunità limitando la libertà degli individui ora il capitalismo vero attenzione non la dittatura delle banche in cui viviamo adesso perché quello in cui viviamo adesso non è il vero capitalismo è la dittatura delle banche se crollasse la dittatura delle banche ed entrasse in campo il vero capitalismo il vero capitalismo dei difetti ne ha 10.000 primo dei quali è ovviamente lo sfruttamento ingiusto delle risorse naturali della natura e così via qui potremmo continuare a aprire un libro sono d'accordo con te il capitalismo vero dei difetti ne ha 10.000 però almeno questi problemi fondamentali li ha risolti tutti lavorano tutti producono in base al proprio destino in base alle proprie capacità in base al proprio karma chi fa i lavori più ricchi chi vuole guadagnare di più chi si accontenta di meno chi fa i lavori più umili in un certo senso la società riesce a sopravvivere cioè è il minore dei mali che finora siamo riusciti a inventare questa è la mia umile opinione ora perché è il minore dei mali perché non ha bisogno di interferire pesantemente con la libertà degli individui il vero capitalismo non quello attuale il vero capitalismo non ha bisogno di interferire pesantemente con la libertà degli individui in ogni momento della vita quotidiana come succede nelle varie utopie collettivistiche e ti ricordo che fra i valori fondamentali anzi secondo me il principale al primissimo posto fra i valori di tempo di cambiare c'è l'autonomia individuale questo per me è il valore sacro per eccellenza l'autonomia è proprio la natura sacra dell'individuo tu o sei a favore di un sistema che richiede un'autorità centrale che regola la vita e limita la libertà degli esseri umani oppure se per l'autonomia individuale la via di mezzo non esiste questa è una scelta di campo e io ti chiedo rifarla e questo include ideologie cosiddette egualitarie che nel corso della storia dei secoli hanno sempre avuto bisogno di un governo centrale per farle rispettare quindi tu decidi da che parte stai perché io ho già deciso da che parte sto tempo di cambiare segue questa visione se dovessi dire un'altra ancora obiezione motivo di obiezione ovviamente su tutte queste si può dibattere per carità non pretendo di dire l'ultima parola siccome tu mi hai chiesto la mia opinione io ti sto dando la mia opinione un'altra mancanza secondo me di questo sistema è che l'idea questa idea di un unico conto corrente uguale per tutti determina la impossibilità di arricchirsi di alcune persone allora che significa che Italo Cillo si vuole arricchire Italo Cillo è interessato ad arricchirsi no personalmente no non sono personalmente interessato ad arricchirmi anzi se lo vuoi sapere sto aspettando il giorno in cui potrò finalmente ritornare in solitudine in una grotta a riprendere la mia pratica di meditazione che ho dovuto interrompere per occuparmi dell'economia familiare e di dare un futuro ai miei figli però ecco come dire siccome conosco la mente umana so che esistono persone che sono motivate dal guadagnare di più e questo non è un male in sé per sé se queste persone capiscono che per guadagnare di più bisogna creare valore per gli altri che è poi l'essenza di quello che significa essere imprenditori in altre parole queste persone che sono motivate dal guadagnare di più e dall'arricchirsi sono poi quelle persone che creano più valore e più ricchezza per tutta la società nel suo insieme in modo tale che tutti ne traggono beneficio e se tu invece togli quell'incentivo cioè l'incentivo ad arricchirsi e guadagnare di più è tutta la società nel suo insieme che diventa più povera come si è visto in tutte le società dominante da un'ideologia cosiddetta collettivistica e questo è un altro motivo per cui quest'idea così com'è a mio umile parere non funziona o naturalmente io rispetto le idee di tutti in particolare non rispetto ma addirittura ammiro Francesca ammiro Francesca per il suo sforzo il suo slancio idealistico di trovare soluzione allo sfascio sociale ed economico in cui ci troviamo oggi come oggi incoraggio Francesca a raffinare continuamente la sua idea raffinarla ancora di più perché sono convinto che migliorata modificata e così via anche sulla base di questi feedback alla fine potrà forse arrivare a essere qualcosa che è di beneficio per il progresso dell'umanità ringrazio Francesca perché condivide con gli altri questa idea e i frutti delle sue riflessioni sono anche contento che lo faccia sul forum di tempo di cambiare da me creato e da me ospitato anche se non sono d'accordo sono felice che Francesca ne parli su questo forum però però non chiediamo agli altri di dover essere necessariamente d'accordo o peggio ancora evitiamo di dire non sei d'accordo perché non hai capito perché c'è c'è anche un livello di rispetto reciproco da mantenere nel corso delle nostre discussioni quindi questa è la mia risposta alla domanda di Teresa che più per oggi abbiamo detto tantissime cose rimangono ancora un po' di riepiloghi e di anzitutto ok per queste domande come vedi non riesco a rispondere a tutte le domande nel corso di ogni episodio se no dovrei fare un podcast di tre ore c'è una particolare sezione all'interno del forum il forum è su www.tempodicambiare.it slash forum e c'è una sezione intitolata domande aiutano e proposte per il prossimo episodio del podcast qui puoi fare domande richieste di approfondimento domande rivolte direttamente a me e così via puoi anche candidarti e proporti per un tuo intervento una tua intervista l'inserimento di un tuo contributo audio nel podcast e così via poi ti ricordo che sul blog molti già lo fanno sul sito www.tempodicambiare.it molti già lo fanno c'è un pulsante audio per registrare direttamente la tua domanda o la tua riflessione quindi questo è il modo per fare queste domande volevo parlare dei prossimi eventi dei prossimi appuntamenti e delle prossime occasioni incontro perché è così importante per noi altri organizzare occasioni di incontro e già questo è un valore in sé per sé una di queste prossime occasioni di incontro e l'avevo detto già la prossima volta la scorsa volta mi sembra forse no ne ho parlato solo via mail quindi esatto se hai riscritto la mail in list hai ricevuto questo avviso se non sei scritto la mail in list ancora non lo hai ricevuto questo è un altro motivo in più per scrivertela la mail in list di tempo di cambiare venerdì 16 novembre 2012 ormai manca meno di 10 giorni terrò una conferenza pubblica a Milano venerdì 16 novembre a Milano questa conferenza si intitola lo spirito della realizzazione la terrò alle 20 e 30 del 16 novembre alla sala di Vittorio presso la camera del lavoro in corso di Porta Vittoria 43 abbiamo creato una pagina di promemoria che la trovi su www.miglioriamo.it slash Milano tutto minuscolo ovviamente ripeto miglioriamo.it slash Milano minuscolo ci sono perfino tutte le istruzioni per raggiungere questa sala in autobus in treno a piedi in metropolitana in tutti i modi possibili immaginabili compreso l'aereo l'elicottero all'ingresso di questa sala dove terrò questa conferenza ci sarà l'associazione Dawa di cui faccio parte è un'associazione di beneficenza che aiuta i tibetani in Tibet questa associazione raccoglierà un contributo donazione di 5 o 10 euro a persona questo significa che all'ingresso sarei libero di donare 5 o 10 euro questa conferenza durerà più o meno un paio d'ore e passa dalle 8 e mezza andremo avanti più o meno fino alle 11 questo incontro è aperto a tutti ovviamente spiegherò cos'è questo spirito di realizzazione di cui parlo nel titolo secondo me questo spirito di realizzazione è proprio quello che noi abbiamo perso è proprio quello che abbiamo smarrito che abbiamo bisogno di ritrovare e di riscoprire in tutte le dimensioni della nostra vita personale lavorativa sociale spirituale faremo insieme naturalmente anche un'esperienza di meditazione una meditazione guidata che condurrò personalmente cercheremo di trovare anche spazio per fare un po' di domande e risposte e interazione col pubblico e soprattutto sarà un'occasione bellissima per incontrare altri spiriti liberi proprio come te uomini e donne che vogliono pensare con la propria testa sviluppare il proprio cuore e migliorare il mondo se riesci a organizzarti per partecipare sarò ben felice di incontrare anche te e di salutarti a Milano e questo per quanto riguarda il 16 novembre a Milano l'occasione di incontro successivo è poi ovviamente Roma che bello che queste due siano proprio nelle città più grandi e più importanti d'Italia a Roma ci sarà la fine del mondo secondo raduno di tempo di cambiare non puoi mancare 21, 22, 23 dicembre a Roma essendo la fine del mondo gli organizzatori stanno facendo le cose in grande anzi in grandissimo festa con gruppi musicali disgioche artisti giocolieri acrobati di tutto di più sarà peggio del Cirque du Soleil la sala conterrà alcune centinaia di persone da quello che ti sto dicendo sulla base di cibi come si dice cibi bevande feste musicisti dal vivo artisti e così via diciamo questo fa leggermente salire le spese organizzative e quindi gli organizzatori romani mi hanno chiesto di poter fissare la quota di iscrizione in 60 euro a persona e io ho risposto che mi sembra ragionevole che se loro ritengono che questa è la cifra migliore fissiamola pure a 60 euro ti darò la pagina di iscrizione prestissimo però tu ovviamente devi darmi la tua email così che ti possa avvisare non vorrei aspettare il prossimo podcast fra i prossimi 15 giorni per iscriverti anche perché potresti addirittura rischiare di non trovare posto come è accaduto a tantissime persone nello scorso mese di luglio nello scorso mese di luglio nel primo raduno quando l'hotel di Abano Terme è andato completamente esaurito nel giro di pochissimi giorni quindi dammi la tua email nella pagina di questo o in qualsiasi pagina di tempodicambiare.it vedrai questo box all'interno del post in cui scarichi la registrazione mamma mia quante parole inglese in cui scarichi la registrazione c'è un form che dice clicca qui inserisci il tuo nome per essere avvisato di eccetera eccetera tutte le cose che riguardano tempo di cambiare quindi il prossimo episodio che dire ci sarà sicuramente un'altra intervista interessantissima ti ricordo che puoi seguire questo podcast anche iscrivendoti direttamente su iTunes anzi fammi questo piacere dai il tuo giudizio la tua recensione aggiungi come si dice la tua opinione su questo podcast quando vai su iTunes sulla pagina iTunes e qui troverai il link su questa pagina sulla pagina dove scarichi questo episodio troverai il link alla nostra pagina iTunes per favore dagli un voto ci tornerà il sistema delle stellette e dagli il tuo giudizio obiettivo di quello che pensi di questo podcast perché aiuta a me e aiuta a noi tantissimo a mantenere visibile questo podcast anche per gli altri che ancora non lo conoscono questo è Tempo di Cambiare il podcast della minoranza indipendente io sono Italo Cillo sei felice ci risentiamo fra 15 giorni a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.